fare la moderatore stai registrando si dicevo avrei compito di farla moderatore quindi vi chiedo due cortesie la prima nei limiti del possibile di tenere il microfono spento quando non parlate così evitiamo sovrapposizioni e anche interferenze la seconda chiederei a tutti soprattutto a tutti gli autori ci siamo dati l'avamo anche scritto quando vi abbiamo mandato la mail di partecipazione di stare nei dieci minuti per l'esposizione l'indicazione dei contenuti fondamentali dell'articolo quello che ritengono di dire anche perché siamo in molti a dover parlare sennò poi tempi si allungano nei limiti del possibile magari verso la fine se riusciamo a conservare questa scaletta può anche essere che ci sia uno spazio per qualche breve considerazione da parte di chi vuole però almeno così consentiamo a tutti l'esposizione nei tempi che ci siamo dati allora fatto detto questo io chiederei a massimo di introdurre la serata con le considerazioni che ritiene poi dopo man mano seguo la scaletta che avete visto sulla sulla locandina salvo anticipare l'intervento di costantino marmo fra i primi prego massimo allora ovviamente con i tempi che abbiamo non posso fare un'introduzione io volevo dire qualche cosa su come è nata l'idea di questo fascicolo però gli elementi che stanno gli spunti che stanno alle spalle di questa idea sono talmente tanti che non so come organizzarmi quindi direi che lascio perdere i discorsi troppo paludati tipo tutte le discussioni sulla storia come narrazione come finzione letteraria e gli studi di white di cui magari poi parlerà qualcuno degli autori dico in particolare quali erano le cose che muovevano me cioè dopo tanti anni passati a studiare il medioevo mi sono accorto che non capivo niente cioè ma chi sono questi qua era questa la domanda ma chi sono cosa fanno alla sera non guardano la televisione parlano di più del meno che cos'è il più del meno per loro e e come nascono i fatti di cui noi studiamo quindi non riusciamo io no personalmente non generalizzo non sono in grado di ricostruire la catena dei fatti per spiegare perché lì è successa quella cosa non sono in grado di capire che persone sono quelle che di cui studio il pensiero perché immagino che tommaso d'aquino non parlasse sempre come come si esprime nella summa teologica e e allora c'era questa specie di ricerca della della vita quotidiana della vita non quotidiana della vita anche perché si presta molto il medioevo in quanto di per sé sembra un romanzo d'avventure cioè personaggi medievali sono sempre circondati cioè uno non può parlare di carlo magno senza immaginarsi una roba enorme un mito e e e allora l'idea era appunto cerchiamo di ricorrere alla finzione letteraria a vedere quelli che ci raccontano delle cose che fondamenti hanno sia quelli che ci raccontano delle cose nel medioevo sia quelli che ci raccontano delle cose sul medioevo in particolare faccio riferimento in questo caso non è un'eternità di solito io dico di avere un'eternità questa è più una quaternità nel senso degli autori che mi hanno spinto anche a questo uno è ovviamente Umberto Eco che dopo il nome della rosa ha cambiato le mie prospettive soprattutto dopo che ha detto che io avevo capito bene il nome della rosa questo mi ha mandato assolutamente in sollucero l'altro Eco essendo filosofo non è proprio la vita quella che perché parlano sempre un po' da filosofi quello che invece secondo me riesce a dare un'idea molto più vivace è Follet i pilastri della terra sono trovo che l'unico difetto che io trovo in Eco e in Follet è il fatto che abbiano litigato un po' tra di loro perché non se lo meritava nessuno dei due cioè fanno due cose totalmente diverse andava bene il terzo è de vol che abbiamo scoperto in questo frangente questo autore di origine tedesca poi naturalizzato inglese un pazzo furibondo nel senso che studioso di astrologia collaboratore del dei servizi segreti inglesi perché studiava le posizioni astrologiche pensando che Hitler fosse sensibile a questo allora lui diceva gli inglesi quando l'astrologia era tale per cui Hitler si sarebbe sentito più debole cioè una roba da pazzi pensare che la seconda guerra mondiale è stata vinta in parte per merito di Turing e in parte per merito di The Wall dall'idea di questa enorme confusione che è il mondo la l'ultimo nome che mi viene da fare anche se questo ci sono arrivato dopo che avevamo fatto il fascicolo è Elizabeth Chadwick che ha scritto dei romanzi meravigliosi su Eleonora da Quitania e anche su altri ma su Eleonora ne ha scritti tre che io ho frequentato a lungo anche perché e qui vengo al al vertono tutti su quel periodo di tempo che mi ha in particolare sedotto che è la fine del dodicesimo secolo cioè il regno di Enrico II Eleonora da Quitania Giovanni senza terra Riccardo Cordileone approfittando di questo stimolo sono anche andato a studiarmi un altro personaggio rilevante di questa zona che è Robin Hood e di cui ho trovato delle cose meravigliose che ignoravo totalmente però ci sono arrivato dopo quindi io nel fascicolo poi magari accenderò qualcosa più avanti mi sono occupato in particolare della storia di Beckett cioè dell'arcivesco assassinato nella cattedrale volevo solo far rilevare due o tre cose che mi hanno l'intrigo e la come dire la bellezza di quegli anni allora uno è che in Aivano Walter Scott quando racconta che Giovanni senza terra sta preparando la rivolta contro Riccardo tutte e due figli di Enrico secondo e di e di Eleonora da Quitania quando Giovanni sta preparando la rivolta per ribellarsi a Riccardo incarica un figlio di un tale Reginald Fitzhurs che non so assolutamente che fondamento abbia storicamente credo che sia fondato storicamente non non che incaricarsi il figlio ma che questo il padre esiste perché il padre di questo qua è uno dei quattro che sono andati a Canterbury ad assassinare Beckett e già qui io perdono sono 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 tutto contento perché c'è questa cosa non solo ma quindi questo lo racconta Scott nel romanzo Ivanhoe dove praticamente ci dà tutte le coordinate in base alle quali poi nel resto della storia abbiamo pensato a Robin Hood perché è lì che Robin Hood raggiunge il suo massimo devo dire quanto sono stato felice di poter fingere di lavorare leggendo Robin Hood Ivanhoe che finalmente è come se uno mi dicesse il medico ti ha ordinato di fumare ah finalmente ecco e in alcuni racconti riguarda in alcune delle delle ballate di su Robin Hood ce n'è ce n'è una in particolare dove questo intrico si fa ancora più violento perché Robin Hood e Lady Marian sono rispettivamente amati e come dire e tentano di sedurli e Eleonora d'Aquitania e il principe Giovanni cioè il principe Giovanni è innamorato di Lady Marian e Eleonora d'Aquitania di Robin Hood e a lei il dodicesimo secolo mi diventa finalmente una roba divertente naturalmente l'assassinio di Beckett ci rimanda poi a tutto l'altro l'altro aspetto e cioè in particolare a all'arcivesco di Canterbury a Beckett che diventa arcivesco di Canterbury dopo essere stato molto amico di Enrico II e dopo aver avuto come segretario Giovanni di Salisbury che è il mio filosofo preferito perché uno che riesce a scrivere mille pagine per dire veramente non so di cosa potrei parlarvi perché è tutto così confuso e però ci mette mille pagine cinque libri del Policraticus da cui uno ne viene fuori dicendo ah importano le circostanze i momenti le situazioni la verità non ci sa bene che cosa sia va bene credo di non avere detto niente di particolare però volevo solo darvi il senso perché a me mi era parso particolarmente interessante studiare queste cose vai Marco allora grazie Massimo eh dare la parola adesso Amalia per presentare un pochino più nel dettaglio del fascicolo eh sì buona buonasera a tutti eh beh innanzitutto ringrazio ringrazio molto eh la redazione per avermi affidato il compito eh di curare questo questo fascicolo eh certamente tutti gli autori per la bella collaborazione eh che abbiamo avuto e anche certamente tutti i partecipanti collegati oggi eh l'intento del fascicolo come già in abbiamo si è visto dalla dalla introduzione di del professor Parodi è quello appunto di eh di dare voce ai molteplici volti del medioevo eh tenendo conto delle sue differenti rappresentazioni tramite il il tema della narrazione anche perché eh questo tema consente di individuare quelle forse eh rappresentazioni di medioevo che eh in qualche modo hanno hanno fossilizzato questa l'immagine la rappresentazione di medioevo in alcuni stereotipi che appunto essere consapevoli delle narrazioni specifiche aiuta a eh individuare e eh e insomma riflettere su questi aspetti il medioevo per cui ho osservato da due punti di vista principalmente in questo fascicolo eh dalla narrare appunto il medioevo da da un punto di vista appunto della propria letteratura della letteratura che appunto la letteratura appunto con cui eh si narra se stesso e dall'altra parte eh il medioevo che è oggetto di narrazioni eh che appunto come come dicevo spesso hanno generato dei dei pregiudizi delle rappresentazioni eh specifiche eh dalla da come diceva anche il professor Parodi si comprende appunto anche un po' la genesi di questo fascicolo che senz'altro ha avuto origine dalle discussioni della redazione eh animate dal dall'intento generale in fondo della della rivista che è quello di cercare di creare un dialogo di eh cogliere un dialogo tra gli studi medievistici sia di ambito filosofico che di altri ambiti e le domande che la contemporaneità ci pone poi certamente le discussioni eh le nostre discussioni hanno incrociato anche la scomparsa di Umberto Eco eh sempre presente nella nel nei nostri riferimenti insomma che anche collaborò alla rivista nel nel 2003 nel fascicolo dedicato alla metafora metafora e conoscenza eh e fu anche chiaramente eh come ben noto autore di di romanzi di ambientazione medievale e su pensiero ha anche ispirato eh un laboratorio che il professor Parodi mh ha tenuto nel 2017-18 presso la Statale eh sui romanzi di ambientazione medievale a cui hanno partecipato come relatori alcuni autori qui presenti per cui una si tratta di un insieme di materiali eh e di riflessioni che insomma sono concluiti all'interno eh del del presente numero. I temi che forse non sono rappresentati nel fascicolo ma ugualmente significativi a livello della narrazione del Medioevo che vorrei soltanto ricordare eh sono l'arte ottocentesca, la pittura, l'architettura che hanno anch'esse delineato eh delle narrazioni del Medioevo su cui appunto non abbiamo avuto modo eh di approfondire come anche l'ambito musicale su cui però eh nel nel 2010 abbiamo è stato pubblicato il fascicolo numero 10 appunto dedicato ai rapporti tra musica medievale e musica contemporanea dove si può in qualche modo ehm individuare alcuni alcuni tratti appunto di questa eh idea del narrare il Medioevo e certamente tutti quegli ambiti appunto dei medievalismi che invece eh sono stati espressi nel recente eh nel recente eh convegno eh a cura anche del professor Marmo qui presente. Il fascicolo è articolato in quattro sezioni come si vede specificamente nella edizione cartacea eh forse emerge meno in quella in quella digitale. È una prima sezione dedicata al Medioevo che si racconta dove appunto si prendono in considerazione le narrazioni prodotte durante i secoli medievali. Ce ne parleranno la professoressa Rossana Guglielmetti e il professor Marco Rossini. Una seconda sezione dedicata alle narrazioni storiografiche eh il discorso riguarda appunto il discorso storico sul Medioevo e ce ne parleranno i dottori eh Gregorio Fiori Caronis e la dottoressa Daphne Grieco, il dottor Damonte Marco Damonte e dottor Roberto Rossi. Eh il terzo il terzo ambito, la terza sezione riguarda invece i romanzi di ambientazione medievale. Come fatti inventati o storicamente accaduti divengono oggetto di narrazioni letterarie e qui interverranno i professori Costantino Marmo e Massimo Parodi anche la sottoscritta. Infine l'ultima sezione molto interessante le rappresentazioni del Medioevo eh per come appunto si sono avute tramite le le immagini del cinema, tramite controstorie anche eh vedendo la questione dei falsi, delle ocronie, delle mappe mondi eh che su cui ha scritto il dottore Enrico Barbirato non non verrà approfondita oggi perché l'autore eh non 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 ha potuto partecipare. Eh ringrazio quindi tutti e prima degli autori avremo un intervento del dottor Marzio eh Zanantoni per Biblione Edizioni. Grazie ancora. Grazie Amalia eh dottor Zanantoni se vuole intervenire a proposito appunto della come rappresentanza anche dell'editore. Grazie. Buongiorno buongiorno anzi buonasera ormai visto che guardo fuori vedo il buio eh buonasera a tutti eh io non non conosco eh personalmente molti dei dei collaboratori che vedo qui presenti alcuni li conosco di nome sì forse eh in in statale eh qualcuno posso averlo incrociato ma eh quindi mi è gradita l'occasione per salutare tutti collaboratori presenti e eventualmente collaboratori futuro. Ora il mio io sono trovato dico la verità un po' in imbarazzo eh eh vedendomi assegnato questo seppur brevemente questo tema della narrazione editoriale. Lo svolgerei così. Eh da un lato il mio interesse per o meglio eh l'interesse che avevo per per il medioevo ehm che passava attraverso effettivamente una ipotetica eh produzione editoriale. Eh dico questo perché l'autore su cui io mi sono laureato eh il mio ambito chiamiamolo di studio insomma Massimo lo sa che ogni tanto mi diletto anch'io ancora in ricerca eh eh è l'ambito della storia storia culturale italianza otte novecento. L'autore su cui mi sono laureato con Mario Dalpra eh eh ovviamente lì in statale eh era Antonio Labriola che io eh da allora cioè 1979 è continuato a studiare eh su cui ho pubblicato e ancora oggi in questi questi ultimo anno sto eh studiando e preparare un volume di suoi scritti. Bene tra gli scritti eh di Labriola mi avevano sempre affascinato eh gli appunti che sono stati ritrovati eh eh su eh che ha svolto di due corsi universitari quindi non un due corsi universitari su Fradolcino e eh la la l'attività chiamalo così ereticale del medioevo e mi ero sempre siccome quando ho cominciato a a studiarlo per la tese subito dopo questi appunti si sapeva di questi appunti che erano stati così riprodotti eh non non erano noti non ero pubblicabili mi era sempre venuta l'idea ma chissà se un giorno questi appunti sarà possibile sognare diciamo ipotizzavo già come mio mestiere futuro di stare dentro i libri appunto magari poter essere dentro una casa editrice quindi eh devo dire che ecco passava di lì la mia visione principalmente la mia visione sul medioevo l'altro aspetto che in qualche modo si è incrociato anche se se più tardi degli anni da fine anni 70 anni 80 e invece è appunto l'aspetto più propriamente professionale editoriale e attraverso Doctor Ritualis perché eh io guardavo vedevo questa strana pubblicazione di cui sinceramente non riuscivo a capire fino in fondo gli intendi capivo che dietro c'era una mente quello appunto di Massimo Parodi allora poi certo ho capito che eh è un collettivo giustamente opportunamente ma insomma dietro e lui lo conoscevo come come docente insomma come eh eh però appunto ripeto i miei esami svolgevano pur avendo fatto dei canonici esami anche di di settore medievale poi eh vertevano più sulla 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 età appunto moderna contemporanea però ecco la vedevo ma non solo come lettore la vedevo perché fin da cioè dopo una decina di anni dopo mi sono ritrovato dentro il chiamiamolo il gruppo editoriale insomma complessivo che pubblicava i numeri i primi nomi non so proprio se fin dall'inizio questo non lo ricordo sinceramente comunque i primi numeri di Doctor Ritualis che era fondamentalmente la libreria dell'università statale eh io ero dentro il gruppo cominciavo ad orare il gruppo di cui la libreria o l'insieme delle librerie universitarie che allora erano parecchie sparse per un po' per tutte le facoltà eh eh faceva facevano parte e quindi vedevo questo questo da un po' da lettore un po' da editore perché mi mi vedevo che c'era era una cosa un po' diversa dal solito e queste cose mi hanno sempre incuriosito e quindi quando usciva il numero dicevo mi ricordo mandatemelo fatemelo vedere qualcosa ci troverò di interessante al di là di qualche arrivo speciale sicuramente qualcosa ci troverò ci troverò oppure passavo dalla libreria e lo leggevo eh quello legge se c'era qualcosa che che mi interessava e eh fino a che fino a che ehm adesso qualche anno fa diciamo così genericamente l'esperienza della libreria eh che produceva pubblicava il Doctor Ritualis eh è terminata in maniera forse alcuni che erano statali sono statali che sono transitati possono ricordarselo eh insomma è stata una cosa un po' burrascosa e quindi eh per inizialmente per una concomitanza di 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 quasi obbligata di passaggio nel senso che eh anche proprio formalmente le produzioni della libreria che allora era la libreria Cume sono passate alla casa editrice edizione di Copli di cui ero il direttore e quindi c'è c'è stato un contatto per capire come proseguire poi dopo in realtà abbiamo con Massimo insomma abbiamo un po' approfondito la conoscenza siamo trovate anche in altre occasioni quindi è venuto ancora più eh semplice eh il passaggio e quindi la mia eh narrazione editoriale passa proprio attraverso la narrazione di un pezzo della mia vita diciamo professionale legata appunto a questo prodotto particolare strano originale e molto produttivo intellettualmente che è Dr. Virtualis. Lì naturalmente eh c'è stato un un primo ripensamento eh complessivo del della eh del rivista del periodico eh che voleva dire appunto ripensare la la seppurme la continuità la copertina rivedere l'impaginazione eccetera eccetera quindi eh c'è stato un dialogo non solo tecnico ma eh ma anche in qualche modo concettuale su le prospettive della rivista gli interessi e come questi elementi tradurli appunto in una in una in una rarazione editoriale nel senso di eh in una produzione editoriale quindi è chiaro che lì ci sono entrato ancora più dentro eh perché l'interesse comunque intellettuale c'è sempre stato non non era una e devo dire eh eh anche compiacere c'è stato questo 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 avvicinamento non da parte mia perché ripeto eh c'era questo pregresso legato a una a un prodotto editoriale che mi aveva sempre incuriosito eh fino a che qui arrivo all'ultima fase e termino fino a che eh le vicende eh di 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 editoriali legate alla eh libreria che produceva il libro alla casa editrice che produceva poi eh lo stesso libro o lo stesso prodotto editoriale eh lo stesso periodico eh si sono eh concluse in vario modo e con Massimo e con mio grande piacere si è eh deciso di valutare la possibilità che è diventata concreta potete vedere da questo primo fascicolo eh di continuare eh non solo l'esperienza di dottor virtuali che comunque continuerebbe indipendentemente da me indipendentemente da 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 dalla situazione editoriale in cui si trova perché ha un suo valore in sé naturalmente ha un suo progetto e un allargamento felice come ho potuto constatare di di energie intellettuali di 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 dialettiche interne eccetera ma ehm si è visto anche il rapporto che 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 naturalmente mi ha fatto piacere di eh posso dire almeno da parte mia di di fiducia che si è creata eh in entrambi di continuare con una nuova situazione editoriale che eh io mi auguro possa eh avere come già cioè si è cominciato a parlare anche i prossimi numeri eh che che vedo che non so che sono appunto in preparazione che quindi questa narrazione eh eh personale intellettuale professionale e e e culturale anche da parte mia possa possa continuare e qui mi mi fermo. Grazie dottor Zanantoni. Allora come avevamo concordato in precedenza do la parola a Costantino Marmo anticipando il suo intervento per ragioni di impegni poi eh suoi e quindi chiedo a Costantino Marmo di parlarci appunto del suo articolo filosofi filosofie medici e guaritrici in alcuni romanzi storici medievali. Grazie. Il microfono è spento. Il microfono è spento. Ok. Ok. Adesso dovreste sentirmi giusto? Ok. Scusate ma con queste non sono ancora abituato. Si fa perdere. No vi ringrazio molto per l'invito anche a parlare questa sera e mi dispiace aver obbligato eh organizzatori a anticipare il mio intervento ma eh queste serate appunto sono si stanno rivelando molto molto impegnative più di quanto immaginassi e quindi devo devo andare a teatro. Ehm è un'occasione anche ringrazio a tutti anche chi ha accolto il mio intervento perché è un campo per me è relativamente nuovo quello del medievalismo e dei medievalismi perché eh di fatto ci sono piombato un po' per caso e volevo raccontarvi un po' queste vicende. Ehm nel 2019 sono stato invitato dalla società per le pensioni medievale a tenere il discorso di apertura eh per il convegno annuale della società che si teneva a Porto in Portogallo e che era dedicato alle ficziones alla ficzione alla filosofia medievale. Io ho accettato in molto così eh da da incosciente eh e ehm però ho pensato ma perché visto che non so nulla dell'argomento non aggiungere anche un'altra cosa di cui non so assolutamente nulla e ho fatto uno di quei giochini di parole all'arma Carlo Marx della critica delle armi, ho detto ah invece di parlare solo delle ficziones nella filosofia medievale parliamo anche della filosofia medievale nelle nelle fictions e quindi e quindi è venuto fuori un un irco cervo di intervento in cui una parte era dedicata al medioevo eh da da studioso della filosofia medievale e l'altra da ehm curioso diciamo così del eh del dei romanzi in cui si parla appunto eventualmente di filosofia ovviamente il nome della rosa non poteva mancare e eh e da lì è nato un po' tutto eh questo intervento è un po' la continuazione diciamo così del di quell'intervento della seconda parte di quell'intervento con qualche studio in più perché poi nel frattempo mi sono accorto che il medievalismo era una una disciplina ormai riconosciuta a livello accademico e eh tant'è che abbiamo appunto Amalia ricordava poco fa questo convegno che abbiamo tenuto la settimana scorsa qui a Bologna eh intitolando appunto i medievalismi poi abbiamo aggiunto autunnali per fare l'occhiorino strizzare l'occhio a a a all'autunno del medioevo però era era in tema e e quindi eh mi sono trovato appunto ad avere molto materiale perché quello che è successo è che da quando ho proposto questo tema all'allora presidente della società ho avuto grassi eh mi sono messo a leggere eh ha sprombattuto centinaia no centinaia forse no però tantissimi romanzi cercando appunto spunti per questo intervento e ne ho trovati tanti e eh li ho messi molto più a frutto in questo in questo intervento che non nell'altro che cosa ho fatto? La cosa che mi ha affascinato un po' è stata soprattutto una cosa che ha a cui ha accennato anche Massimo e cioè il fatto che eh il romanziere eh è obbligato in qualche maniera a eh descrivere le fattezze fisiche a descrivere la la concretezza perché deve rendere eh un ambiente deve rendere eh deve dare carne e ossa in qualche maniera anche se di carta ai propri personaggi e quindi quando menziona qualche eh qualche personaggio storico è obbligato a fare qualcosa a cui noi non saremo a parte che siamo poco interessati come storici della filosofia ma eh a cui eh non potremmo mai attingere se non con una fantastica macchina del tempo che però non c'è ancora messa è stata messa a disposizione non so gli scienziati cosa aspettano e mh e quindi c'è tutto questo quello che ho fatto è fondamentalmente una raccolta delle descrizioni e eh una piccola riflessione sull'eventuale funzione narrativa che queste descrizioni hanno all'interno del dei vari delle varie situazioni dei vari romanzi eh perché appunto eh come molti di voi sapranno io mi trovo eh un po' a metà strada tra due ambiti di ricerca la filosofia medievale che è la mia passione originaria quella che mi ha condotto a fare questo lavoro e la semiottica che eh deriva dal fatto che ho un certo punto incontrato Umberto Egon e la cosa ha apportato qualche risultato e mh e quindi ho cercato di mettere insieme le due cose non riuscendo a fare né il filosofo medievale cioè lo storico del filosofo medievale né eh il semiologo perché poi non ci sono delle vere proprie analisi eh semiottiche però ho raccolto è una un articolo diciamo così più di review di eh rassegna del dei vari romanzi in cui eh filosofi filosofi anche eh medici guaritrici perché e anche mediche non so quale sia il femminile di medico ma penso sia qualcosa del genere ehm eh agiscono e eh in alcuni romanzi fanno anche investigazioni e sono quindi ehm protagoniste di indagini e quindi eh ho trovato la cosa estremamente interessante ehm ovviamente ho cercato per quanto possibile ma è una tentazione a cui è difficilissimo sottrarsi di evitare il il gioco del troviamo l'anacronismo perché è poco interessante poi fondamentalmente perché non aiuta neppure tanto a comprendere eh a comprendere a valutare ad apprezzare il il la narrazione storica ehm anche perché se cominciamo a parlare di anacronismi e lo lo raccontavo nell'ultimo convegno l'anacronismo più macroscopico che però sul quale tutti siamo disposti a chiudere un occhio e anche due è la lingua la lingua con cui parlano o con cui tutti i personaggi degli romanzi storici parlano perché che è fondamentalmente la lingua materna dell'autore dell'autrice e questo per noi va benissimo va benissimo da da Walter Scott da Vittor Hugo in qua perché è ehm il romanzo è scritto da qualcuno che vuol farsi apprezzare non da qualcuno che non vuol farsi capire e quindi ehm è una 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 di quelle operazioni di negoziazione implicita ehm a cui tutta la letteratura tutta la la creazione letteraria è in qualche maniera obbligata a sottostare eh parlo di negoziazione perché Umberto Eco stesso ha parlato di di negoziazione eh come appunto di quella di quella eh sorta di contratto che si stabilisce tra un lettore e un autore nel momento in cui i vengono messi in scena vengono rappresentate delle situazioni eh e raccontate e raccontate delle situazioni delle vicende quindi ehm questo eh in questo saggio in particolare ho appunto riportato queste queste descrizioni alcune sono molto eh sono molto interessanti eh a cominciare da quelle del nome della rosa eh ma ci sono anche appunto quelle eh di Mondino dei Viuzzi per esempio nei romanzi di eh di Angelo Colitto oppure di eh vari di Legaard di Bingen o di eh o di altri o di altri filosofi eh e eh e teologi della della che compaiono in questi romanzi ehm in alcuni in particolare la 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 funzione narrativa è molto importante nella nella collezione diciamo così nella serie dei romanzi dedicati a una filosofa a Catherine Levander che è allieva di di Eloisa al Paracleto e che eh conosce anche Abelardo interagisce con Abelardo nei primi quattro volumi sono almeno sei o sette se non ricordo male ehm sia Abelardo che Eloisa fungono proprio da eh coloro che mandano che danno l'incarico agli investigatori per eh risolvere una questione e quindi per risolvere un mistero e una una sorta di intrigo ecco di intrigo ai danni di Abelardo e quindi svolgono la funzione che nella nella semi narrativa è chiamata di destinante mandante cioè quello che mette in moto tutta la la vicenda la vicenda ehm e la le strutture narrative fondamentalmente e quindi eh è una funzione tutt'altro che secondaria ehm naturalmente eh si parla molto poco di filosofia ecco in questi in questi romanzi perché eh la filosofia è molto poco diciamo così appealing eh per per il lettore medio a cui si eh generalista diciamo così non specialista a cui si rivolgono di solito gli autori e anche questo fa parte dei compromessi o dei 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 del contratto di lettura che l'autore o l'autrice stabilisce nei confronti nei confronti dei propri lettori eh quindi devo dire anche che rileggersi in questo caso non fa mai bene perché ci si trovano sempre degli errori o del non solo quelli di stampa anche proprio degli errori materiali e quindi eh avrei preferito parlare di quello che ho fatto magari più recentemente o che ho scoperto andando avanti perché poi appunto non mi sono non mi sono fermato però magari ve lo racconto un'altra volta e vi ringrazio tantissimo per la per la ospitalità e per lo spazio che mi avete lasciato. Grazie. Grazie Costantino Marmo, darei la parola a Rossana Guglielmetti e il suo articolo Il santo che non ti aspetti sorprese ed eccentricità nella geografia medievale. Grazie. Grazie e grazie anche a Massimo Parodi Amalia Salvestrini per avermi coinvolta in in questo esperimento che mi ha anche dato l'occasione una volta tanto di di scrivere divertendomi. Ecco per cominciare a sintetizzare un po' il i contenuti del del mio articolo comincio con una domanda. Che cosa hanno in comune Epifanio che fa morire un uomo per poterci fare sopra una battuta di spirito? Brigida che fa sparire nel nulla un feto indesiderato dal grembo della madre? Breccan, un altro santo irlandese minore che imbroglia sull'estensione del proprio patrimonio monastico? Pocolo che premedita e mette in atto un omicidio? È quando in comune che sono tutti santi, santi ufficiali della Chiesa Cattolica, anche per questo peraltro. Ecco quando mi è stato proposto di partecipare a questa riflessione su come il Medioevo viene percepito e su come il Medioevo si racconta, rivela se stesso, mi è venuto abbastanza spontaneo rivolgermi al genere della geografia. Questo per due motivi che come benissimo mostrato tra gli altri Anton Gurevich è un tipico genere di compromesso alto-basso, cioè un genere scritto per forza di cose da una classe intellettuale, una classe ecclesiastica più colta, ma che deve necessariamente tenere conto della forma mentis di un pubblico molto più ampio. Ed è quindi un genere che tende a tradire abbastanza il modo di pensare più diffuso e al tempo stesso è anche un genere rivelatore di quanto nel Medioevo vi fosse una varietà teologica e etica, una pluralità di modelli di che cosa fosse giusto, sbagliato e dunque anche di che cosa fosse la santità, che è un po' diversa da quei nostri santini un po' appiattiti che più o meno possiamo distribuire nelle due categorie del martire supereroe e del santo perfetto e modello di ogni virtù. Perché i santi veri, quelli del Medioevo, in realtà sono anche violenti, permalosi, vendicativi e questo perché sono uomini in cui i fedeli che ascoltano queste storie devono potersi riconoscere. Persone le cui logiche di comportamento devono essere evidenti anche appunto nella vita quotidiana dei non intellettuali, comprese logiche come quella dell'offesa, ritorsione eccetera. Del resto a cosa serve in fondo il santo, almeno secondo me nel contesto della teologia, se non proprio ad avvicinare il sacro a tutti, anche a chi avrebbe più difficoltà a rapportarsi con quell'idea inarrivabile che è la Trinità, così astratta, così difficile. Il santo è più vicino. Ecco, per fare solo un esempio dei cattivi sentimenti dei santi, si può ad esempio leggere il brevissimo resoconto di una riunione tenuta dai grandi santi irlandesi della generazione dei fondatori dell'evangelizzazione dell'Irlanda, che è raccontata nella vita di Charan il giovane, il santo che è un po' vittima di questa situazione. Ecco, il racconto dice che i santi di Irlanda erano invidiosi di Charan per la sua eccellenza e si affidarono al re dei cieli perché la sua vita potesse essere abbreviata. Così grande era la loro invidia nei suoi confronti che persino il suo compagno Colum Kille, il nome irlandese di San Colomba, insomma un pezzo grosso dell'ambiente, disse sia benedetto Dio che si è preso San Charan, perché se fosse arrivato a tal età non ci sarebbe rimasto in Irlanda tanto così di spazio che non sarebbe stato di sua proprietà. Cioè capiamo che questa specie di sinodo voodoo ha funzionato perché effettivamente Charan muore, muore poco più che trentenne di peste. Ecco, questo è un caso un po' estremo che un po' sconfina nel grottesco, ma altri casi sono più inquietanti, cioè richiedono la ricerca di ragioni più profonde per spiegare perché la narrazione su un santo possa prendere una piega decisamente non convenzionale. E torno allora a uno di quelli che citavo all'inizio, il toccolo, quello dell'omicidio premeditato. La leggenda è ambientata in età martiriale, ma in realtà nasce a Bologna nella seconda metà del dodicesimo secolo. E quello che si inscena è il tipico scontro tra il campione della fede che predica la nuova fede in un contesto pagano e il prefetto che rappresenta invece l'impero e il paganesimo, però con una variante rispetto allo schema solito, che prima di arrivare a essere arrestato e martirizzato, il toccolo ordisce l'assassinio del suo persecutore. Passa la notte ad affilare un'ascia e la mattina dopo, dopo debita preghiera, gli stacca la testa. E tutto ciò va bene, va benissimo, poi lui sarà martirizzato, santificato e glorificato anche per questo. Ma come fa ad andare bene? Ecco, e qui allora bisogna guardare appunto a quando e dove è stata scritta questa storia. Qui parliamo di una Bologna che è stata appena sconvolta da un fatto di sangue analogo. Dopo la sottomissione al Barbarossa, quando Federico riparte e torna in Germania, i bolognesi nel 1164 assassinano il vicario imperiale che Federico aveva lasciato in città, compiendo una sorta di tirannicidio per procura. E negli ambienti guelfi di Bologna quindi si crea questa storia, questa controfigura del fatto di cronaca recente, dove un martire locale senza storia, questo procolo di cui si sapeva solo il nome, diventa il modello della reazione contro l'impietà dell'imperatore, della reazione tirannicida. Non è un caso certamente che questa Bologna sia anche uno dei luoghi dove insomma ha avuto la sua prima diffusione e fortuna un'opera che è carissima anche a me, il Policraticus, che anch'io dal dal mio versante insomma di filologo studiato molto e che con tutte le le cautelle, le sfumature, ecco il meraviglioso neo accademismo di Giovanni di Solvori pone anche il tema del tirannicidio. Ecco insomma anche in questa storia possiamo vedere come la geografia testimoni dei valori fluidi, dei valori forzabili in direzioni anche impreviste e questo non solo quando appunto risponde al compromesso con le aspettative di un pubblico più basso ma anche quando è prodotta in un ambiente più alto. Per concludere come idea generale io sottolineerei anche questo che la geografia è un'ottima testimone di eh di una libertà e di un'audacia di espressione che non è il cliché che più normalmente si accosta al medioevo. Eh chi non studia il medioevo ma ne ne sente parlare un po' così per sentito dire ne ha un'idea più superficiale eh tendenzialmente gli proietta sopra un'immagine di costrizione, di rigidità dottrinale che diciamo cioè in realtà è un po' più della dell'età moderna, ecco arriva un po' dopo. Se lasciamo che il medioevo parli per sé eh scopriamo una polifonia inaspettata e spesso un po' spiazzante. Grazie. Grazie. Adesso io sono nella situazione imbarazzante che do la parola a me stesso perché siccome l'autore successivo sono io quindi eh vi presento alcune idee dell'articolo che ho scritto che si titola Nudità e Pazzia, la rottura francescana tra geografia e narrazione. L'obiettivo era un po' quello di ricostruire il modo in cui è stata raccontata la figura o la vicenda di Francesco D'Assisi servendosi da un lato delle biografie e quindi ricollegandomi a quello che diceva adesso eh Rossana Guglielmetti anche le ageografie che sono state composte eh nell'immediatezza della eh scomparsa di Francesco quindi a partire da Tommaso da Celano fino ad arrivare a Buonaventura ma dall'altro e quindi utilizzando quello che Giovanni Gradomerlo ha chiamato il francescanesimo letterario e dall'altro lato utilizzando una serie di romanzi contemporanei di autori che hanno eletto Francesco a eh protagonista dei loro romanzi, dei loro racconti o anche delle loro opere teatrali. Non ho per nulla considerato né le opere filmiche né eh le opere diciamo pittoriche perché sarebbe diventato troppo vasto. Per fare questo naturalmente è necessaria una grande cautela perché eh l'ho detto anche nel nell'articolo Francesco rischia di essere nella stessa condizione eh dell'autoritas secondo all'anno di Lilla cioè avere il naso di cera e poter essere piegato da una parte dall'altra e proprio Gradomerlo nella nella sua ricostruzione su Francesco eh mette in in evidenza come è possibile trovare il Francesco verde, rosa, rosso, nero, littoriale, femminista, c'è di tutto ovviamente. Quello che io volevo seguire era invece un po' il personaggio Francesco che non si appiattisce sulla storia documentale e però in qualche misura con la storia documentale ha a che fare. Eh e partendo da queste ipotesi ho tenuto conto che non sono uno specialista degli studi francescani eh e che il dossier francescano è a dir poco enorme, lunghissimo e credo non dominabile ormai da nessuno. Eh ho cercato di individuare una una visuale eh utilizzando una una serie di termini che stavano sostanzialmente fra di loro in sequenza. I termini sono nudità, sequela cristi e povertà che costituiscono a mio avviso e riprendo ancora la parola da da Merlo una sorta di fondamento trascendentale del francescanesimo. Allora quello che ho cercato di fare visto che il tema era narrare il Medioevo era è quello di cercare di capire come all'inizio è stata narrata eh la spogliazione di Francesco, la spogliazione davanti al padre, al popolo di Assisi e e al vescovo. Ho tenuto conto che credo non rivelo niente di nuovo in questo articolo ovviamente. Questa spogliazione è una rottura molto violenta, è una rottura familiare, è una rottura sociale e volendo anche una rottura ecclesiale. Ed è una rottura che gli stessi narratori, li chiamo così anche se sono poi a Geography in qualche misura, ma lo stesso Tommaso D'Acellano nella vita prima, fatica a comprendere tanto da parlare rispetto a quell'atto di mistero che lui non comprende e paradossalmente vorrei dire si trova una cosa molto simile in un romanzo contemporaneo, in una ricostruzione romanzata della vita di Francesco che è quella di Giovanni Jorgensen che proprio a proposito di quella spogliazione a un certo punto raccontando il comportamento degli astanti dice che con un moto istintivo gli astanti si alzarono quasi a riconoscere la santità anche senza comprenderla e qui direi nella ricostruzione della biografia c'è una sorta di tessuto anche biblico, il riferimento a Isaia l'ascoltate ma non comprenderete, osservate ma non conoscerete. Ecco, quell'evento della spogliazione nel momento in cui viene non solo narrato ma anche interpretato e quindi letto potremmo dire dagli autori e qui il riferimento primo ma nell'articolo i riferimenti sono tanti perché fra Tommaso D'Acellano e Buonaventura moltissime sono le biografie di Francesco scritte nella biografia di Buonaventura nella leggenda Major che poi si dà un po' da scopa rispetto a tutte le altre perché Buonaventura chiederà di cancellare tutte le altre in quella biografia la spogliazione viene collegata alla sequela Cristi e è proprio Buonaventura a dire che dopo essersi denudato Francesco è lasciato solo per seguire il signore nudo crocifisso e mi è venuto abbastanza spontaneo devo dire e leggendo alcune vite di Francesco collegare questa sequela Cristi ad un altro aspetto che pure rientra ritorna nelle biografie di Francesco ripeto sia quelle a lui contemporanea sia quelle a noi contemporanea e che è il tema della pazzia che è in qualche modo riconosciuta un po' da tutto il popolo di Assisi prima della della spogliazione ed è riconosciuta tramite segnali esteriori nel senso che il popolo di Assisi si dice vede Francesco emacciato con gli abiti laceri e così via e quindi in qualche misura parla di lui come se fosse un pazzo anche qui il richiamo biblico è abbastanza evidente del richiamo alla lettera ai Corinzi e all'idea che la sapienza di questo mondo è stoltezza per per Dio però lì il tessuto biblico secondo me serve da rovesciamento nel senso che la la pazzia di Francesco diventa l'introduzione di una logica nuova di una logica oppositiva rispetto al mondo e Francesco stesso che per quello che ci racconta la leggenda perusina o compilazio assisientis che dissi voglia dice il signore ha voluto che io fossi un novello pazzo nel mondo e paradossalmente con un collegamento lunghissimo Milos Cassantakis che è l'autore di Zorval Greco in una sua biografia di Francesco dice questa è la nuova follia ascoltata fa dire a Francesco questa è la nuova follia ascoltatela e questa follia in buonaventura secondo me è totalmente costruita questa follia spogliazione è totalmente costruita intorno alla contrapposizione fra protagonista e antagonista il protagonista è Francesco l'antagonista è Pietro di Bernardone il padre perché la narrazione di buonaventura è davvero molto sapiente dal punto di vista quasi letterario e romanzesco perché gioca tutta la costruzione di questo episodio su opposizioni continui fino a portare il lettore e quindi coloro che leggevano la sua vita la vita di Francesco scritta da lui la leggenda ma all'evento deflagrante che è la la spogliazione anche se poi forse buonaventura non è in grado di trovare le parole almeno a mio avviso così sapienti così adatte per rendere eclatante quasi memorabile questo evento e ci riesce un altro biografo che in realtà scrive sta scrivendo quasi un'opera politica è giuliano d'aspira nell'ufficium sancti francisi e nell'antifona al secondo notturno dice dopo la spogliazione rimasto nudo si presenta esule al mondo e questa questo essere esule al mondo è in qualche misura una formula che per certi aspetti lo stesso Francesco utilizza nel testamento quando parlando di sé dice mi trattenni ancora un poco e poi uscì dal mondo che si vide secolo che è la formula che questa tecnicamente veniva utilizzata per coloro che entravano nel monastero ma io credo che nella mi sembra di poter dire sia per le biografie di Francesco che ho letto a lui contemporanea sia per le narrazioni successive qui invece è costituita in modo diverso cioè non è l'uscita dal mondo del monaco che è semplicemente un posizionarsi in un luogo diverso ma nello stesso mondo ma secondo me quell'uscire dal mondo per Francesco è un cambio di paradigma quasi come ne parla Kuhn nella struttura delle rivoluzioni scientifiche cioè un cambio di paradigma rispetto appunto ai valori del padre ai valori del tempo della società ai valori della chiesa e in qualche modo questa questo cambio di paradigma che Francesco con le parole che gli vengono attribuite nella leggenda di tre compagni utilizza rispondendo al vescovo di Assisi che gli dice ma la vostra vita è molto dura non possedete nulla e Francesco risponde qui lo leggo perché mi sembra un pezzo anche molto bello messere se avessimo dei beni dovremmo disporre anche di armi per difenderci e dalla ricchezza che provengono questioni eliti e così viene impedito in molte maniere tanto l'amore di Dio quanto l'amore del prossimo per questo noi non vogliamo alcun bene materiale a questo mondo ecco mi sembra che qui ci sia in qualche misura ed è l'ultimo termine avevo detto nudità se creva Cristi pazzia ci sia in qualche misura il senso più profondo della povertà che non è semplicemente la rinuncia ai beni come poi è stato anche ma è anche la rinuncia al potere all'affermazione di sé la rinuncia in qualche misura alla propria centralità una sorta di spogliazione che Cacciari nel suo testo su Francesco letto da Dante e da Giotto a paragone in qualche misura alla chenosi divina cioè alla sottrazione di Dio e mi è sembrato molto molto bello vedere sempre nel romanzo di Kazantakis il fatto che quando ricostruisce e io ne parlo nell'ultima parte dell'articolo la perfetta Letizia o la vera Letizia che è un episodio bellissimo che andrebbe letto per intero e forse nella versione che ne danno i Fioretti di San Francesco perché lì è addirittura quasi drammatizzato però Kazantakis ricostruisce questa vicenda e in questa vicenda sono in due frateleone e Francesco che vengono entrambi battuti dal portinaio che non li riconosce e al fatto che Francesco dice a frateleone non intervenire lasciati battere perché è Dio che lo vuole frateleone prima dice no fratello Francesco non mi lamento però noi siamo esseri umani tu te lo dimentichi troppo spesso e subito dopo dice colpisci mi fratello portinaio dice colpisci mi pure ma che Dio ti ti maledica perché in realtà la logica di Francesco sembra essere una logica per certi aspetti inumana a frateleone è il collocarsi nel mondo però indicando un altro mondo e io chiudo quell'articolo l'ho trovato casualmente con una citazione di Anna Arendt che non avrei mai sospettato si fosse occupata anche di Francesco ma in un breve articolo che se non vado errato è dedicato alla recensione di ideologia e utopia in un articolo che si intitola filosofia e sociologia Anna Arendt dice San Francesco d'Assisi per esempio viveva nel mondo come se esso non esistesse questo come se non esistesse nella sua vita concreta è esattamente il suo messaggio e in qualche misura l'idea che non è il posizionarsi in un altro luogo del mondo ma stare nel mondo per indicare un altro mondo e mi sembra una bella indicazione di povertà intesa come sottrazione vi ringrazio e do la parola adesso a Daphne Grieco e Gregorio Fiori Cariones per presentarci il loro articolo per un medioevo plurale Global Middle Ages e Federico II grazie buongiorno vorrei innanzitutto ringraziare la redazione per aver curato il fascicolo l'articolo che presento che è stato scritto a quattro mani con la collega Daphne Grieco è nato da due esperienze in primo luogo dal seminario che è già stato citato organizzato dal professor Parodi nell'anno accademico 2017-2018 e in secondo luogo da una serie di discussioni con la mia collega medievista che mi ha reso edotto sull'uso legittimante ancora nella contemporanea politica del medioevo italiano di alcuni miti risalenti a Federico II. Nella genesi dell'articolo abbiamo quindi cercato di conciliare un discorso più filosofico concernente lo statuto e il ruolo della narratività nella ricostruzione storica con il caso storico concreto osservato da una prospettiva meramente storiografica quindi non abbiamo analizzato delle fonti primarie ma solo delle fonti secondarie. Il nostro tentativo era quello di cercare con un micro esempio di colmare quella poria che era stata ben sottolineata nella lezione magistralis del professor Merlo nel 2019 tenuta appunto nella nostra aula 211. La poria risiede nel fatto che quando si discute di narratività viene comunemente citato un corpus di filosofi che prima comprendeva Croce e Eger e adesso comprende più che altro White e Eger. Raramente, salvo alcune eccezioni molto importanti, pensiamo a Carr, Gainsbourg o Evans, si è dato la parola agli storici ignorando il fatto che una ricerca del significato del concetto di narratività delle sue applicazioni non può essere composta solo da un tentativo necessario di legittimazione epistemologica di questa forma argomentativa e narrativa ma ha bisogno anche di casi concreti, di casi del particolare a cui rapportarsi. Dopo questa premessa diciamo che il nostro articolo si sviluppa in tre sezioni differenti. Le prime due verranno introdotte da me, l'ultima dalla mia collega. Nella prima si fa ricorso ad una serie di definizioni del concetto di narratività a partire da due storici contemporanei, Lauren Stone, quindi il suo articolo liminale del 1979 e l'altro di Lynn Hunt che è una storica modernista e che ha pubblicato un fortunato libro nel 2014. Ho quindi voluto fornire una sorta di mappa che è inevitabilmente parziale e prospettica centrata su autori del mondo angrofono o francese, perché? Perché sono relativamente più citati nel dibattito sulla global history che si è sviluppato più che altro nel mondo angrofono. La seconda sezione invece si concentra sulla presentazione del paradigma dei global middle ages che a nostro avviso presenta due meriti che allo stesso tempo costituiscono anche le maggiori criticità per un'applicazione estensiva di questo paradigma, almeno agli occhi di uno storico europeo il cui lavoro è imprescindibile dal vaglio delle fonti. La nostra posizione generale che è giusto esprimere realmente in cui si parla di narratività e storia è che la storia è sempre esplicativa, per riprendere la differenza che è stata citata in un altro articolo, non è mai solamente descrittiva perché una storia descrittiva forse è più a carattere erudito che a carattere storico, secondo la nota definizione di Ginzburg. Lo storico, secondo il nostro avviso, non può mai stabilire dei nessi causali necessari definitivi, ma può affermare cosa non è stato e come non è ragionevole leggere alcuni avvicendamenti storici limitatamente a fonti disponibili e analizzate, quindi a una funzione negativa ma imprescindibile. Tornando ai meriti dell'approccio global, vi è sicuramente di positivo il fatto che vi sia un tentativo di espandere il concetto di medioevo al di là dell'orizzonte europeo, non per imporre, come è stato fatto in ottica europea e colonialista, una periodizzazione marcatamente europea, ma per rendere ancora più difficile giustificare il paradigma teleologico della modernità. In secondo luogo è apprezzabile, anche se non è originalissimo per una tradizione storica europea che è sempre stata attenta alla dimensione micro e meso, l'idea di voler cercare solo un umbrella term per una storia di spazi anche isolati ma uniti in reti globali. La grossa problematica che qui si schiude e che causa dello scarso successo, almeno per il momento, di questo paradigma è dovuta al limitato numero delle fonti in paesi senza quell'investimento che è secolare, istituzionalizzato nella costruzione della memoria e della storia, che rende così come è facilmente immaginabile difficile verificare delle ipotesi di lavoro che rimangono a un carattere troppo micro. La terza sezione viene quindi introdotta dalla mia collega, qui c'è la parola. Grazie mille, ne approfitto per ringraziare tutti quanti, tutti gli organizzatori per questo bel incontro e per averci accolti. Dunque, insomma, come appunto già anticipato dal mio collegato Gregorio, ci siamo mossi lungo questi assi di ricerca e abbiamo deciso appunto per sostanziare questo discorso, questa impalcatura teorica, di portare un esempio e diciamo come anche un po' ricordava Massimo Parodi all'inizio, abbiamo scelto una figura molto emblematica come può essere anche quella di un Carlo Magno. Federico II è stato scritto di tutto e c'è una forte tradizione anche mitica sulla sua figura. Dunque, le ragioni di questa scelta, visto che il tempo insomma è breve, non potrò illustrarvi diciamo l'articolo in sé per sé, proverò un pochino ad illustrare quelle che sono le ragioni della nostra scelta. In primis, il primo motivo è stato l'inserirsi di Federico II all'interno di vaste aree geografiche, reti culturali e politiche, quindi proprio anzi geopolitiche. Un po' per il suo background, insomma, diciamo familiare, quindi la sua eredità normanna, la sua eredità tedesca, l'essere contemporaneamente re di Sicilia e imperatore, ma i suoi anche contatti culturali con il mondo arabo, nordafricano e medio orientale e che poi si sostanziano anche in rapporti commerciali. C'è un recente articolo che ad esempio che abbiamo citato nel nostro studio che parla di, dimostra come uno dei doni che il sultano fece a Federico fosse un pappagallo proveniente dall'Australia. Quindi Federico II aveva di solito animali esotici presso la sua reggia palermitana, quindi insomma questo per rendere un po' l'idea anche delle reti commerciali. Oltre che per gli spazi ci siamo interessati a Federico anche proprio per la precoce costruzione mitica intorno alla sua figura che precede quasi la sua nascita. Su questo argomento una rinnovata stagione di studi a partire dagli anni 90, ma poi soprattutto a partire dal 2005-2010 circa, si sono concentrati molto su questo aspetto, in particolar modo il Fulvio delle donne, ma anche Marco Brando, che ha un bellissimo titolo il suo libro, L'imperatore nel suo labirinto. In effetti questa costruzione mitica ha fortemente condizionato tutta la tradizione successiva, la tradizione di studi però. Infatti la terza ragione per cui abbiamo scelto Federico II per fare i nostri sondaggi è questa sovrabbondanza di produzione scientifica di vario segno intorno alla sua figura. Abbiamo cercato di vedere come questi tre aspetti, quindi la spazialità, questa mitopoiesi e l'occhio storiografico si intrecciassero tra di loro. Un esempio può essere il concetto di tolleranza, tra virgolette, che appunto non è sicuramente una categoria concettuale che può essere applicata per quel periodo specifico, né tantomeno per Federico, anche fatti alla mano, ma che viene ad esempio utile e che in realtà è un retaggio di una propaganda filo papale e antiimperiale che vedeva Federico come amico degli arabi fondamentalmente e che viene ripresa addirittura ancora da Ghishar all'interno del dizionario per l'Occidente medievale a cura di Legoff e Schmidt dove afferma candidamente che Federico II era un sovrano filo islamico, filo arabo e tollerante, proprio usa testuali parole. Quindi c'è una lunga durata anche di questo tipo di miti, diciamo di stereotipi intorno alla sua figura. Inoltre, diciamo che questo è solo un piccolo esempio, quello che abbiamo cercato di fare piuttosto che aggiungere qualcosa a questa produzione veramente sconfinata, abbiamo cercato di depostruire un po' e di mettere tutto quello che c'è sul piano con un lavoro di scavo non indifferente e di spegnere forse un po' la luce su Federico per invece accenderla su quelle che sono le fonti, sia primarie, alcune non considerate, quelle orientali soprattutto e che sul resto della produzione per farli dialogare tra di loro e speriamo di esserci riusciti insomma. Grazie mille. Grazie a voi. Do la parola a Marco Damonte, il suo articolo Anthony Kenny, narratore della filosofia medievale. Grazie. Grazie a voi. Permettetemi di iniziare dichiarandovi da dove vi sto parlando. Io, diciamo così, il mio riferimento è l'Università di Genova, in particolare io sono di Varazze che, come dire, è la patria, insomma, storicamente un po' dibattuta, ma dovrebbe essere la patria forse del maggior agiografo e del maggior narratore medievale del medioevo, cioè di Jacopo da Varagine, visto che abbiamo appena sentito parlare di agiografia. Mi piace fare questo riferimento e permettetemi anche di iniziare con una piccola anemesi storica, visto che è già stato fatto, anch'io seguo questa scia, cioè come nasce la mia proposta di occuparmi di questo tema. Nasce sostanzialmente da un excusatio, che però è un excusatio che è stata appetita diverse volte. Anthony Kenny è un filosofo inglese, abbastanza conosciuto e tradotto in Italia, al quale però difficilmente è stato perdonato l'aver osato scrivere una storia globale, utilizzo questo termine in quanto sia da quello che lui dichiara, ma anche dalla relazione, dall'intervento che mi ha preceduto, ha osato scrivere una storia globale della filosofia come autore unico e non come curatore. Negli ambienti italiani questo, come dire, è stato più un'accusa che non un vantaggio, nonostante che il nesso tra la speculazione filosofica e l'approccio narrativo dovrebbe essere un tema, come dire, non conosciuto nella tradizione italiana, almeno dopo che le riserve neo-idealiste di inizio novecento, furono superate dal suggerimento di Eco, è già stato ricordato diverse volte, secondo il quale ai limiti di certa filosofia si sarebbe potuto rimediare proprio con la narrazione. Kenny utilizza dichiaratamente questo approccio in maniera assolutamente indipendente da Eco, è ovvio, ma nel contesto italiano ha incontrato diverse difficoltà e io mi sono un po' occupato di Kenny con lui. Kenny è di solito conosciuto anche per essere un po' il padre fondatore di quello che è stato definito Tomismo Vittgenstagnano ed è per questo, come dire, che mi sono permesso diverse volte di intervenire nei dibattiti riportati poi da Dr. Virtualis, di cui ringrazio il direttore in questa sede. Dr. Virtualis e Tomismo Vittgenstagnano mi sembrava, come dire, che fossero due espressioni quasi un po' simoriche ma molto convergenti. La domanda che mi sono posto quindi può essere sintetizzata in questo modo. Che cosa succede quando ci si accinge a scrivere una storia della filosofia considerandola come una narrazione? Succedono cose piacevoli, succedono cose meno piacevoli. Io mi soffermerei su quelle piacevoli perché le altre sono abbastanza evidenti, tra l'altro sono state appena ricordate. Quelle spiacevoli significa rinunciare a quella metodologia scientifica riconosciuta nel ricorso puntuale alle fonti dirette nel ricostruire un evento di solito molto circoscritto e molto puntuale. Quali sono invece i vantaggi di ricorrere alla categoria di narrazione? Beh, il primo un po' dalla pars destruens è la rinuncia a un eccessivo storicismo. Il secondo è di nuovo un'altra rinuncia, cioè la rinuncia ad assolutizzare certe categorie storiografiche che a volte vengono considerate come degli assoluti e come degli a priori. Il terzo vantaggio è quello di riuscire in qualche modo a descrivere degli oggetti che sono complessi. Prima è ritornato il termine polifonia. Nella narrazione della storia della filosofia di Kenny c'è esattamente questo tentativo di riportare la polifonia degli autori medievali che vengono a volte invece presentati in maniera un po' troppo omogenea. Un altro, un ulteriore vantaggio che emerge è quello di prestare attenzione allo sfondo senza soffermarsi semplicemente sulla argomentazione logica ma cercare di capire perché quel tipo di argomentazione nasce ed è stato utilizzata in quel contesto e perché viene formulata proprio in quei termini. Oltre a questa attenzione allo sfondo c'è il rifiuto esplicito di fare storia di ciò che è semplicemente sopravvissuto ma c'è anche quella sana curiosità di andare ad indagare quegli aspetti che sono stati ritenuti secondari e addirittura sono stati tralasciati e si sono e si sono persi. Un ulteriore vantaggio è quello di dare unità. Il termine che viene utilizzato da Kenny, quello che ho utilizzato anche prima, è quello globale, dare un riportare una storia globale che segni non soltanto il racconto del periodo medievale in questo caso ma che addirittura pretenda di inserire l'importanza del periodo medievale in una concezione ancora più globale della filosofia nel caso di Kenny va sostanzialmente dai pressocratici ai giorni nostri. Quindi segnare, e questo è un ulteriore punto, la continuità e l'imprescindibilità di questo periodo della filosofia, una continuità dove però esistono anche delle fratture, dei guadagni e delle perdite. Un ultimo punto che, voglio dire, è un po' una spada di Damonte, ma secondo me è un vantaggio in base a quello che è stato emerso anche dagli interventi già esposti, quindi secondo me può essere condiviso, è l'aspetto della divulgazione. È soltanto una storia narrata con alcune delle caratteristiche che ho appena ritardato che può essere utile anche per una divulgazione, per una divulgazione all'interno, come dire, di un pubblico di un certo tipo, ma anche all'interno della storia della filosofia che viene fatta, diciamo così, all'interno del percorso degli istituti liceali italiani, dove spesso e volentieri il periodo medievale è quello, come dire, un po' la cenerentola stretto tra il terzo e il quarto anno. Quindi anche lì, come dire, di fronte a certi stereotipi della filosofia medievale, una narrazione più generale, non semplicemente puntuale, può effettivamente essere utile. Ultime battute su alcune caratteristiche proprie dell'opera di Kenny, in cui valore lo si può riconoscere se capiamo quali sono dei due principali conti che lui tra l'altro dichiara. Da una parte c'è quella, c'è la storia di Bertrand Russell e dall'altro lato c'è invece, ci sono i sei corposi volumi della storia del Gesù da Copleston. Kenny dichiara di ambire a trovare una mediazione tra queste due modalità. Ciascuno, dice Kenny, ha i suoi vizi e le sue virtù. Russell è brillante ma storicamente inaffidabile. Copleston è impeccabilmente giudizioso ma uniformemente pedestro. Idealmente uno storico della filosofia dovrebbe avere lo spirito di penetrazione di Copleston e scrivere come Russell. Purtroppo, un po' di falsa modestia, un po' di lucro britannico, non ho nessuno di questi due doni. Non posso competere con l'esaustiva completezza di Copleston né imitare l'incomparabile stile di Russell che gli è valso il premio Nobel per la letteratura. Mi sono posto un obiettivo più modesto, essere più accurato di Russell ed essere più accattivante di Copleston. Lascerò a voi decidere se l'obiettivo di Kenny è stato raggiunto e vi saluterei con le due metafore che lui suggerisce per accostarsi alla storia della filosofia. La prima è quella della cattedrale medievale. La storia della filosofia medievale assomiglia a una cattedrale medievale perché per la sua edificazione c'è stato bisogno di una serie innumerevole di artigiani il cui nome spesso è sconosciuto. Ciascuno ha avuto dei meriti ma nessuno ha preteso di arrogarli a sé. La seconda metafora invece è quella della catena montuosa. Tommaso, dice Kenny, a mio modo di vedere può considerarsi a buon diritto come il filosofo più rappresentativo dell'età medievale al suo apogeo. Ma egli non è che la vetta più elevata di una catena montuosa che presenta varie altre cine splendenti. La filosofia medievale è soprattutto un continuum e quando se ne legge un singolo esponente, esitati di Abelardo, di Tommaso e di Ockham, non si fa che saggiare in modo parziale un processo che non ha soluzione di continuità. Presto si impara che tra due vette maggiori ve ne sono sempre di minori, che pure non vanno trascurati. Tra Tommaso e Scoto, per esempio, c'è Enrico di Garde, tra Scoto e Ockham c'è Enrico di Harkley. Per raggiungere, quindi per tentare di descrivere questa costruzione della cattedrale o questa catena montuosa, Kenny utilizza un doppio racconto. Nella prima parte del suo volume il racconto vorrebbe essere cronologico. Ora non sto a fare un'indagine, come dire, sulle cronologie che lui e le sue due fonti principali utilizzano. All'interno di questo racconto cronologico lui presenta anche alcuni elementi biografici che reputa interessanti e nella seconda parte, invece, viene fatto... vengono saggiati alcuni temi specifici che vengono approfonditi e laddove nella prima parte veniva sottolineato l'aspetto della continuità, in questa seconda parte per ogni tema si fa vedere invece come esistano delle discrepanze anche notevoli tra i diversi autori. Esiste anche un capitolo, per esempio, di filosofia della religione dedicata a Dio, che ovviamente vedo la presenza tra noi della professoressa Bartolomei, con la quale si può non essere molto d'accordo, perché questa coincidenza tra riflessione su Dio, ad esempio, e filosofia della religione, è un po' discutibile, però anche in questo capitolo Kenny fa bene emergere quale sia la pluralità che non possiamo rinunciare di comprendere propria della religione. Vi ringrazio. Grazie. Do la parola a Roberto Rosci, il suo articolo Tra romanzo e rivoluzione e il mineralismo medievale sotto la penna di Umberto Eco. Grazie. Buonasera a tutti e ringrazio tutta la redazione di Dr. Virtualis per aver organizzato anche questo momento di confronto, di condivisione del lavoro svolto e l'occasione del numero della rivista a cui ho potuto partecipare. Una partecipazione che è nata durante un po' uno degli... delle occasioni già citate, che è quel seminario, cioè un altro seminario di professor Farodi, questo incentrato sulla filosofia medievale di Umberto Eco, a cavallo appunto tra i testi saggistici e la produzione romanzesca. Mi sembra del 2016, se non ricordo male, però potrei sbagliarmi, adesso magari la memoria mi inganna. Però il testo da cui è partita quindi questa riflessione che appunto mette a fianco il mondo del romanzo, il mondo della finzione narrativa, a quello dell'immaginario della rivoluzione, intrecciando quel tema tutto medievale che invece è il racconto apocalittico, l'attesa del millennio e quindi fa parte di una storia stereotipo medievale. Ecco, il testo principale di partenza è stata quella che oggi è pubblicata da Bonpiani come l'Apocalisse di Beato nel 2012 sotto questo titolo e invece in prima edizione edito per Franco Maria Ricci nel 63 con il nome di Palinsesto di Beato. Quindi l'articolo ragiona su come Eco affronti questo stereotipo del Medioevo, quello che lui indica, invece nelle dieci modi di sognare il Medioevo come un po' questo il Medioevo dell'attesa del millennio, attesa che ha ossessionato in modi diversi ogni secolo dei concelioni ai terroristi, dei fratticelli agli ecologisti. Quindi una sorta di immaginario onnicomprensivo che si ripercuterebbe di generazione in generazione attraverso tutta la storia occidentale. Ecco, una cosa interessante lavorando in un'epoca difficile non sul Palinsesto ma purtroppo sull'Apocalisse di Beato che era l'unico delle due versioni facilmente reperibili in un regime di lockdown, perché c'era questo elemento, l'articolo e il tasso scritto proprio in un momento dove un testo di Franco Maria Ricci può essere molto difficile da procurarsi a Biblioteca Chiuser e quindi ho dovuto lavorare in prima fase su questo Apocalisse di Beato che di fatto è tutto un testo che si incentra su un commentario dell'Apocalisse dell'ottavo secolo, potrei sbagliare, dell'ottavo nono secolo, dell'ottavo secolo, ecco, che è in cui eco ragiona tanto sulla sovradeterminazione delle interpretazioni operata dal commentatore che cerca di dare un'attribuzione univoca e apertissima, nel senso di chiarissima, non di indeterminata ma anzi proprio di corrispondenza quasi univoca in codice a tutte le simbologie citate dal profeta di Patmos e quindi ragiona su questa tendenza medievale al sovradeterminare l'interpretazione, a pensare con iconografie di tipo simbolico come iconografie di tipo allegorico di fatto, quindi un tentativo di trasformare la profezia in una sorta di dimostrazione degli eventi del proprio presente o degli eventi imminenti nel proprio presente. Ecco, in questo tipo di operazione, del testo del 63, del 12, in realtà fanno delle operazioni un po' diverse, nel senso che il testo del 63 nell'articolo lo sviluppo poco perché purtroppo è stato ripreso dopo, ho curato che non ci fossero contraddizioni, però proprio il testo del 63 ha una profondità rispetto al fatto che è vero, sostiene che Beato possa essere all'origine di una tendenza inizialmente medievale e poi tutta contemporanea di creare queste narrazioni che promettano orizzonti politici futuri e quindi la genealogia parterebbe da Beato ma poi passerebbe da Gioacchino da Fiore, da Gioacchino da Fiore si finirebbe con alcuni passaggi a Hegel, da Hegel a Marx, da Marx tutto il problema invece del ruolo del comunismo e del materialismo storico, della vulgato materialismo storico ben inteso all'interno di uno scenario politico come potevano essere poi gli anni delle brigate rosse, gli anni di più rispetto a come questi racconti, queste promesse potessero muovere una militanza politica verso anche orizzonti di tipo meno moderato, mettiamola così, di tipo di politica radicale ed ecco questa genealogia nella versione del 12 ricorda tantissimo la versione un po' più famosa proposta da Karlovit che vedeva e cercava le radici di fatto giudaico-cristiane di Marx riportandolo alla fine alla narrazione di Agostino e al testo apocalittico mostrando che ci fosse una dicotomia tra cui sceglie tra una concezione ciclica del tempo dell'età classica contro invece l'immagine vettoriale lineare della tradizione ebraico-cristiana arrivata dai giorni nostri attraverso le filosofie della storia. Ecco, l'articolo si propone un po' di abbandonare la lettura di Lovit e di decostruirla sostenendo che pecchi dello stesso errore che Eco imputa a Beato e tutto il, ovvero di sovradeterminare anche le corrispondenze tra queste diverse forme di raccontare e vivere l'apocalisse. Per fare questa decostruzione il primo autore di mezzo prima di tornare poi su Eco è stato scelto per parlarne quella che io non so se sia veramente tra i riferimenti però risuona tanto se si pensa al ruolo di Fradolcino nel nome della Rosa che è già citato poc'anzi e Antonio Labriola che appunto dedica i due corsi a Fradolcino ma oltre a questi corsi ci sono dei passaggi che mi sono rifatto invece dalle lettere, dall'epistolario con Sorel, cioè non è un epistolario con Sorel ma sono lettere indirizzate a Sorel pubblicate apertamente in cui Labriola cerca di creare un contrasto tra l'interpretazione che vorrebbe vedere in questi eretici dei precursori della teoria marxista perché c'è appunto sulla scorta di teorie più famose che vedevano negli anabatisti dei precursori della lotta proletaria lui fa vedere come il disagio della lotta di classe dell'analisi del materialismo può spiegare il perché si crea un movimento da un punto di vista delle condizioni sociali in cui un movimento di Fradolcino può prendere piede e ha senso che prende piede all'interno di una teoria marxista ma poi fa vedere come il profeta Fradolcino, l'eresiarca, nelle sue vesti di profeta non prenda nulla, fa solo una rappresentazione soggettiva di questa lotta di classe per cui non è più una lotta di classe ma è il racconto dell'Apocalisse che invece che mettere la campagna contro la città come vuole l'analisi marxista che dice che analizza che è la nascita del disagio su cui si baserebbe questo movimento la indirizza invece contro i preti di ogni genere e grado tale per cui alla fine la lotta sarebbe destinata a fallire perché è purtroppo solamente di fatto di una sovrastruttura culturale alla fine trova sfogo in una sovrastruttura culturale e quindi qual è il punto debole? Il punto debole è pensare che veramente il marxismo sia l'iterazione di questi racconti apocalittici quando invece è un tentativo non di profetizzare l'avvento della rivoluzione ma l'abriola su questo è chiaro ma di fare una diagnosi delle potenziali condizioni ottimali all'atto rivoluzionario che è tutto un altro tipo di lavoro è un tipo di diagnosi politica basato su elementi economico-sociali e serve semplicemente a pensare a un momento favorevole ma non a dire che la rivoluzione andrà bene e a promettere che andrà bene non ha quella il materialismo nella sua funzione più filosofica non ha quella funzione epidittica del comizio politico che con venature evoluzionistiche che era presente invece nella politica concreta del partito socialista italiano in quegli anni e contro cui l'abriola infatti si scambia e quindi con questa figura di dolcino è proprio un emblema di questa impossibilità di fare le analogie tra gli apocalittici e il materialismo e quindi ho provato a riportarla dentro il discorso di Eco nella figura dei dolciniani del romanzo del nome della rosa in cui in effetti si fa vedere, cerco di mostrare in poche battute come quando l'apocalisse viene usata da questi eretici viene usata in una maniera molto, potremmo dire appunto, un po' bactiniana, dialogistica nel senso che è lo strumento con cui l'eretico di fronte all'inquisitore gli rigurgita tutto il proprio odio, tutto il proprio, l'importanza di essersi mezzo contro l'inquisitore e la gerarchia però quando si va dietro le quinte con Guglielmo che lo interroga sul perché in fondo si fosse unito i dolciniani l'era lo stesso Remigio da Varagine che poi sbraita figure apocalittiche contro Bernardo Vui ecco a Guglielmo da Vasquez gli confessa che lui era confuso era una questione di ebrezza, era tutto di pancia come tipo di adesione alla profezia l'unica cosa che la profezia poteva dargli era una certezza di cui aveva bisogno in quel momento per sfogare dei banali istinti materiali ecco e quindi nel nome della rosa si fa vedere l'idea che in fondo non si che non ci sia, l'apocalisse non abbia questo verso unitario per cui il racconto apocalittico emana un eretico di basso livello sociale la teoria materialistica e la teologia della storia di Agostino siano la stessa struttura che dicono tutte la stessa cosa e in fondo quindi c'è da proporre un'alternativa completamente altra ecco questo tipo di decostruzione alla Hobbit secondo me pecca di un'analogia troppo forzata nel cercare di ricondurre all'origine un vizio primordiale di queste narrazioni che invece la storia e anche il romanzo di Eco ci mostrano malleabili in mano a seconda del contesto ecco in cui finiscono e quindi la domanda è allora perché perché Eco si diverte a fare queste analogie perché tutto cioè come nel Beato di Lebana nell'apocalisse di Beato lui imputa in fondo al Beato di essere all'origine di tutti i mali di questa filosofia della storia di queste ideologie ecco noi scopriamo nel testo del 63 che uno in realtà è ben consapevole e precisa le differenze di vettori perché lo stesso apocalittico può essere usato dai marxisti in un verso e dai nazisti quando prendono ottiche millenarie ed escatologiche in tutt'altro verso quindi due orizzonti valoriali politici molto diversi a cui quindi la struttura dell'apocalisse non vincola specificatamente e poi nel romanzo avviene questo che tutto il romanzo sappiamo benissimo che è uno studio su come in fondo le analogie inducano in errori di sovradeterminazione e sovrainterpretazione e quindi in realtà non andrebbe fatto e quindi qual è l'idea? è che ecco quando costruisce un intero romanzo in cui il manoscritto viene trovato durante la primavera di Praga in cui i francescani sembrano il partito comunista che cerca di salvare i principi di eguaglianza in analogia a quelli della povertà contro invece l'apparato di potere del mondo occidentale l'apparato ecclesiale del medioevo è tutte queste analogie che noi vediamo, cerchiamo ci sembrano praticamente dire addirittura c'è la moglie di Dolcino si chiama Margherita proprio come la compagna di uno dei fondatori delle Brigate Rosse quindi c'è proprio du gioca su tutte queste analogie ma in fondo perché ci sfidi cioè l'idea è che sfidi il lettore a dire quanto sei medioevale nel senso se sei medioevale leggerai in questi paralleli, in queste analogie una decostruzione effettiva di tutto l'orizzonte del nostro presente attraverso il mondo medioevale vedrai nel mondo medioevale riflesso il nostro ma a quel punto tu stai sbagliando io ti insegno che non devi fare questo lavoro anche se faccio di tutto per indurti a farlo e quindi l'articolo vuole un po' mostrare come nonostante l'apparenza di Eco man mano anche di più sempre avanzando con l'età sembrasse quello di creare le analogie di creare i paralleli di mettere sullo stesso piatto appunto l'ecologista con il circoncellione in realtà ci sfidi dall'altra parte a non cadere in questa sua trappola e a tenere e riconoscerci come lettori postmoderni nel senso più nobile penso del termine a ritrovare il nostro spirito critico e ricordare con l'abriola che Marx era tutto uomo di scienza e potremmo dire beato fradolcino che poteva appunto vedere tutte le sue corrispondenze e poteva credere di farla quella rivoluzione che poi fa grazie grazie la parola Massimo Parodi letteratura nella cattedrale il sorrino di Beckett grazie hai il microfono spento Massimo se posso volevo partire da un una glossa su quello che diceva adesso Roberto nel senso che verissimo tutto quel discorso su volevo aggiungere una cosa però nel nome della rosa Umberto Eco mi ha spiegato cioè l'ho rivendicato in varie occasioni mi ha spiegato il 68 e mi ha spiegato che cosa avevo fatto nel 68 con una frase attribuita a Remigio che è drammatica perché è un errore logico è un errore formale e quando interrogato da Guglielmo Remigio cerca di spiegare perché loro avevano fatto tutto sto pasticcio gli dice ci avevano detto la verità vi renderà liberi ci sentivamo liberi abbiamo creduto che fosse la verità che è un errore logico perché il modus ponens e il modus tollens non si può fare questo passaggio e viva gli errori logici va bene allora adesso posso posso tornare avrei altre cose da dire su quelle che sono state dette perché bene ne dico una sola perché fa parte della narrazione quando Marzio parlava all'inizio della storia della rivista c'è un piccolo aspetto piccolo enorme aspetto nella storia della rivista che se mi commuovo abbiate pazienza ma sono ormai eco mi ha spiegato che quando uno deve commuoversi se si commuove va bene cioè non deve trattenersi allora quando noi abbiamo inventato la copertina del primo numero abbiamo cercato un'immagine che fosse in qualche modo emblematica di quel discorso che volevamo fare e abbiamo trovato questo che noi chiamavamo erroneamente il monaco con gli occhiali che è rimasto anche sull'ultima copertina perché assolutamente per noi era intoccabile che nelle copertine fino all'umero scorso teneva tutta la tutta la copertina questo monaco con gli occhiali andava bene perché era il monaco medievale però era anche un intellettuale era quello che pensava poi c'ha gli occhiali eccetera eccetera siamo andati avanti per anni chiamandolo il monaco con gli occhiali facendo un errore che avremmo potuto evitare cioè nel senso che si vede benissimo che non è un monaco perché è vestito da dominicano ed è un dominicano ma quello che è stato sconvolgente sul piano della narrazione è quando ho scoperto in una notte di tre genda girando su internet chi era allora noi abbiamo avuto io e purtroppo dei presenti siamo rimasti in pochi ad averlo conosciuto un grande amico che lavorava con noi alla statale in ambito di studi medievali che era Eugenio Eugenio Randi morto a 33 anni lui aveva studiato un tizio per me assolutamente sconosciuto che si chiamava Ugo di Saint Cher e aveva pubblicato alcune cose trascritto alcune cose di Ugo di Saint Cher io non sapevo assolutamente chi fosse e non mi ero neanche preso la briga di andarmi a informare dieci anni dopo la sua morte noi abbiamo cominciato con la con la cosa della rivista abbiamo siamo andati avanti un bel po' di anni con questa storia del monaco medievale e poi in quella notte di Tre Genda io ho scoperto che questo fresco che stava a Treviso questo lo sapevo ma non mi era mi era indifferente che stava a Treviso rappresentava Ugo di Saint Cher devo dire che è stata una notte una notte terribile perché senza saperlo assolutamente eravamo confluiti su questa figura qualcuno scherzando mi ha detto no ma non è una tua impressione è proprio che Eugenio ve l'ha indicato eh va bene ognuno se lo può spiegare come vuole va bene scusate ma ormai sono in pensione faccio il romantico allora io che cosa che cosa ho tentato di fare io ho tentato di mettere le mani su quel nido di vipere che è la corte di Enrico II alla fine del XII secolo tiro subito le fila di un discorso che ha abbastanza può sembrare abbastanza strano ma mi sembra significativo nel parallelo che avevo fatto anche all'inizio con Robin Hood dove poi sono andato a finire e ho trovato questa come dire questa corrispondenza forse c'è qualche termine tecnico più utile tra Beckett e Robin Hood oltre al fatto che vivono più o meno teoricamente nello stesso ambiente Beckett è un personaggio storico di cui nessuno ha mai dubitato della cui esistenza nessuno ha mai dubitato e gli storici di Beckett non hanno capito niente perché non si capisce niente di che cosa ha fatto Beckett e ci sono anche sono andato a vedere anche degli studi storici come dire virgolette seri che oltretutto citando anche la geografia di Giovanni di Sosbury di cui si parlava prima con la professora Cuglielmetti si dice che è noiosa questa geografia è veramente brutta cioè non dice niente non si riesce a spiegare granché la geografia di Giovanni di Sosbury fa pensare che Beckett fosse destinato a diventare santo fin da bambino ma non è vero niente cioè quando viveva alla corte di Enrico II ed era cancelliere di Enrico II faceva tutt'altro che diventare santo quindi allora io sono andato a vedere quali erano le narrazioni su Beckett e sono arrivato un po' alla conclusione che in fondo Beckett è un personaggio reale che però è stato assorbito dalla letteratura non si riesce a capire niente se non passando attraverso la letteratura solo la letteratura ha tentato di spiegarlo e l'ha spiegato nei modi molto diversi però si vede subito tant'è che per noi cioè voglio dire è diventato quasi omonimo di assassino nella cattedrale ma non sappiamo bene se deriva dal fatto che è stato assassinato nella cattedrale o se deriva dal fatto che Illiot ha scritto assassino nella cattedrale se io dico l'arcivescovo dei Canterbury quello di assassino nella cattedrale tutti capiscono l'alternativa è Robin Hood Robin Hood è un personaggio su cui ormai nessuno più dubita non è esistito è un personaggio leggendario e letterario che è stato assorbito dalla storia cioè l'esatto contrario di Beckett su Robin Hood hanno discusso tutti per secoli a partire dal XV secolo quando hanno cominciato a circolare le prime leggende su Robin Hood che ovviamente non sono del XII secolo ma lo mettono nel XII secolo fino ai giorni nostri compreso facendo riferimento a Rossi compreso anche interpretazioni duramente marxiste non solo marxiste ma proprio sovietiche cioè nel senso che esistono delle splendide illustrazioni di Robin Hood che fa un comizio rivolto al popolo di spalle e il popolo ha delle bandiere guarda caso rosse e dietro alle spalle di Robin Hood ci sono delle specie di picche piantate per terra che finiscono con una falce quindi non ci sono l'analogia è vagamente suggerita ecco questo è molto è molto strano cioè mi ha colpito molto cioè di un personaggio storico che è diventato letterario e di un personaggio letterario che è diventato storico e fino a pochi decenni fa continuavano a discutere su chi poteva essere stato si sono trovati i documenti nel quindicesimo secolo nel sedicesimo secolo eccetera invece venendo a a a Beckett prima vi avevo segnalato come ci fosse questo intrico tra Scott e l'assassino nella cattedrale nel senso che uno di quelli incaricati di preparare la rivolta contro Riccardo è figlio di uno degli assassini di Beckett non solo ma se avete letto i pirasti della terra mi auguro che nessuno sia sfuggito perché testo fondamentale di Follett i pirasti della terra si conclude con l'episodio di assassini nella cattedrale cioè si conclude con l'uccisione di Tommaso Beckett e sono presenti nel momento in cui Beckett viene ucciso il priore Philip che è uno dei protagonisti di tutto il romanzo e William Hamleg che è quello che aveva ottenuto titoli e possedimenti feudali e che continua a lottare contro la città che si è data le mura tutte queste cose qui quindi ci sono il priore Philip che è diventato vescovo di Kingsbridge cioè della città dove è stata costruita la cattedrale e William Hamleg presenti nella cattedrale quando viene ucciso Tommaso Beckett quindi sono come dire la rappresentazione in scala ridotta dello scontro tra Tommaso Beckett e Enrico II a Beckett sono state dedicate infinite infinite moltissime opere prima di tutto da scrittori medievali dagli agiografi medievali il primo biografo che ci conosce è questo Gern de Ponce Maxens di cui alcuni studiosi mettono in luce come sia uno dei passaggi fondamentali per l'invenzione dei mezzi di comunicazione di massa nel senso che lui dichiara lui stesso di aver scritto una poesia sulla morte di Beckett che poi andava davanti alla cattedrale di Cantelbo e recitava ad alta voce ai turisti e pellegrini che andavano a trovare Beckett un altro importantissimo è Edward Grimm è anche importante perché risulta essere uno presente all'assassinio di Beckett è anche ferito da una pugnalata di uno degli assassini mentre Giovanni di Sosbury terzo grande biografo di Beckett se la cava perché se ne va e va a nascondersi e quando uccidono Beckett lui era fuori stanza però non ci dicono un granché cioè soprattutto io ho letto poco delle altre ho letto quella di Giovanni di Solvori è veramente insostenibile soprattutto conoscendo Giovanni di Solvori che è per me un mito questa geografia è terribile cioè sembra di un altro nel senso che tutto quello che ha detto nel Policraticus nel Metallogico lì se lo rimangia dice delle cose banali cioè mentre invece sono molto più importanti quelle contemporanee e qui non posso raccontarvele tutte perché beh tanto perché le ho scritte ma ricordo soltanto i nomi cioè il primo è Tennyson nel 1884 e Tennyson mette al centro una vicenda che non sempre si trova ma che è la vicenda di questa Rosmunda personaggio mitico su cui poi sono state scritte anche delle opere specifiche e parla anche di Giovanni di Sosbo gli fa fare anche una parte non tanto simpatica perché praticamente nella prima volta che compare fa l'accompagnatore di Rosmunda che è l'amante di Enrico II che l'accompagna nel villino dove Enrico II lo vuole nascondere un pochettino più sensato è il secondo intervento in cui vediamo in cui sta si rivolge all'arcivescovo e cerca di moderare l'atteggiamento dell'arcivescovo e questo è abbastanza come dire coerente con i discorsi di Giovanni di Sosbo è la moderazione a calma circostanze o guardare bene un altro importante molto bello è questo Conrad Ferdinand Meyer che scrive agli inizi del intorno al 1880 è uno svizzero Der Heide che si intitola tra parentesi Tommaso Beckett il santo questo è tutto inventato cioè questo si inventa assolutamente tutto la storia è raccontata da un artigiano svizzero costruttore di balestre che essendo stato in Inghilterra è diventato abbastanza amico sia di Enrico II sia di Beckett assiste a tutte le vicende viene mandato alla fine da Enrico II insegue i quattro congiurati che se ne stanno andando verso la cattedrale di Canterbury perché vuole cercare di fermarli che Enrico II ha cambiato idea e vuole fermarli ma non ce la fa e quindi assiste direttamente all'assassinio all'assassinio di Beckett qui la figura di Rosmunda si trasforma ed è la figura di questa Grace che è la figlia di Tommaso Beckett sedotta e poi abbandonata come da copione da Enrico II per cui si cerca di spiegare in questo modo anche perché dell'odio che si è creato tra i due io ho usato in particolare Meyer per una frase che dice alla fine che è quella che io poi ho in qualche modo ripresa nel titolo e quando questo artigiano guarda Beckett che sta morendo dice vidi davanti ai miei occhi un mare di sangue e in mezzo un volto morente che sorrideva e questo sorriso di Beckett è di nuovo molto difficile da capire poi vengono i tre grandi i tre grandi racconti ascemo ti dovrei chiedere di stringere un po' perché siamo oltre i 15 minuti se riesci grazie hai ragione va bene allora poi vengono i tre grandi racconti che sono quello di Ilio Marder in the Cathedral Assassino della Cattedrale quello di Christopher Frye che è un autore inglese che scrive Court Mantle Mantello Corto che era uno dei soprannomi di Enrico II del 1961 secondo me il più bello di tutti quelli che ho letto e il terzo quello di Anne Will cioè Beckett Un l'honneur de Dieu del 1960 quello da cui è stato tratto Beckett e il suo re il famoso film bellissimo con Richard Burton e Peter O'Toole allora non si capisce niente rimangono tutti ruotano intorno a dei grandi interrogativi perché prima sono grandi amici e poi si odiano quando Beckett è cancelliere sono pappa e ciccia con Enrico II scherzano giocano vanno in giro a cavallo e poi c'è lo scontro violento i motivi che li portano alla rottura e non si capisce quali siano e questa trasformazione di Beckett da uomo come dire che si gode la vita amante del lusso che importa dalla Francia le forchette perché sono una roba nuova e interessante che i nobili inglesi useranno soltanto per fatti per pungisi reciprocamente com'è che passa da questo a una grande fede che lo porta a fare il sacrificio finale ecco continuo a dire purtroppo non si sa attraverso la narrazione si è tentato di dare delle risposte cito solo quella di Enuil che è una quella di di Iliot che è una delle più famose cioè questo fatto che Beckett viene tentato ci sono i quattro tentatori il potere l'amicizia la rivolta e poi alla fine il martirio la tentazione del martirio un po' tutti vanno a finire su questo cioè che in fondo si è stato un atto anche di in qualche modo di superbia cioè che abbia voluto farsi assassinare allora io dicevo ma in modo puramente tanto per trovare una chiusa che in fondo è esattamente quello che ci diceva Maier cioè questo sorriso forse Beckett ci sta dicendo che è inutile che cerchiamo di sforzarci perché come dice Giovanni di Sosbury il mondo è un teatro tutti hanno la loro parte lui prima ha fatto una parte poi gli hanno cambiato ruolo e ha fatto un'altra parte basta grazie scusami la parola Amalia Scialvestrini retorica tra letteratura e storia Agostino e il medievo polimorfo di Louis de Woll grazie grazie prima di iniziare volevo soltanto far vedere il volume di cui si sta parlando e anche il frate qua in immagine visto che il professor Frodine ha fatto riferimento a questo e volevo anche confermare appunto il laboratorio su Umberto Eco che si è tenuto nel 2016 anche a me risulta risulta così sono stati molteplici punti di riferimento e appunto il mio contributo ha voluto un po' svolgere una questione che un po' articolare in fondo la questione dell'arrare il medievo e l'intento dell'articolo appunto è osservare il rapporto tra letteratura e storia per riflettere su questo tema e il punto di partenza è stato anche un autore un po' esterno forse estremo dal punto di vista di questo discorso del rapporto tra letteratura e storia ossia il poeta francese non solo poeta Paul Valéry il quale appunto sostiene che la storia è in fondo soltanto ressì solo racconto perché lo storico è destinato a non raggiungere mai il proprio oggetto contraddistinto da molteplici dimensioni che appunto non potrà restituire nella sua completezza tanto che il suo sforzo secondo Valéry è soltanto rischia appunto di essere arbitrario e allora partendo da questa prospettiva anche estrema si potrebbe dire mi sono domandata appunto se il discorso storico è incompleto quale può essere il contributo di una di una narrazione e i romanzi di ambientazione medievale di Louis de Waul mi sono sembrati interessanti tra chiaramente molteplici che potrebbero essere presi in considerazione mi sono sembrati un interessante appunto terreno d'indagine il professor Parodi ha già detto due parole sulla figura sul su Devo l'autore prolifico scrittore non solo di ageografie per così dire moderne dove forse emerge un po' quello stereotipo del santo che ci siamo formati successivamente per riprendere le osservazioni della professoressa Guglielmetti ma che tuttavia sembra offrire anche una visione molto plurale appunto del Medioevo e appunto mi sono proposta di approfondire il tema del narrare il Medioevo a partire da un oggetto particolare che è quello della retorica che in fondo consente di approfondire per una sorta di vicinanza anche col tema del narrare e permette anche di individuare un duplice livello narrativo da una parte il narrare descrittivo di Devo come appunto Devo costituisce il proprio oggetto e dall'altra la narrazione creatrice di storia dove la parola diviene produttrice di quelle n dimensioni che la prima narrazione va a rappresentare il romanzo di Devo su cui mi sono in particolare soffermata è quello dedicato ad Agostino una fiamma inestinguibile l'avventurosa vita di Sant'Agostino pubblicato nel 1952 e ho cercato di mostrare ripercorrendo le fasi della vita di Agostino a proposito del tema come appunto Devo mette in luce questo tema della retorica chiaramente in Agostino è abbastanza facile perché lui stesso era retore però è molto interessante come Debole restituisce effettivamente questa questa caratteristica di Agostino attraverso una narrazione che si fa non soltanto di fatti non soltanto di personaggi di luoghi che comunque sono molto presenti e importanti per restituire la varietà e la polifonia anche di un'epoca quindi ci restituisce c'è anche un medioevo verosimile anche nell'invenzione potremmo dire appunto ho provato a ricostruire il tipo di retorica che emerge dal discorso devoliano attraverso le fasi della vita di Agostino un primo periodo è il periodo manicheo dove Agostino manifesta un'elequenza che potremmo dire razionalista tesa alla ricerca del vero e alla ricerca di argomenti inconfutabili a questioni filosofiche e non solo filosofiche di estrema rilevanza come la presenza del male nel mondo e altre questioni in un secondo momento Agostino invece nel momento appunto della conversione al cristianesimo Agostino viene affascinato dall'eloquenza di Ambrogio che non è un'eloquenza appunto propriamente razionalista non è un'eloquenza che si fonda su argomenti indimostrabili quanto piuttosto uno svolgere il pensiero comunque in modo coerente attraverso riferimenti simbolici ed è appunto la portata simbolica e allegorica quella che caratterizza il secondo periodo della stessa almeno per come lo restituisce De Vola in queste pagine l'eloquenza di questa seconda fase agostiniana in particolare lui è attratto da questa visione della questa rappresentazione anche da questa lettura appunto nel duplice nel senso nel senso nel senso nel senso si è bloccato ok si era bloccato l'audio adesso adesso va bene si si funziona eravamo al duplice senso si al duplice senso della 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 narrazione della 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 lettura del testo sacro o meglio di come di come ambrogio mette in luce la possibilità di leggere il testo sacro in senso in senso allegorico e questo è un aspetto che che affascina molto Agostino e e caratterizza il suo il suo secondo il suo il secondo livello della 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 retorica agostiniana nella ricostruzione di di de Vol e che lo aiuta anche a trovare quei nessi tra la cultura tra la tra la tra la tradizione neoplatonica i testi neoplatonici di Plotino e i testi sacri che poi Quindi saranno appunto il punto di fondazione anche della sua ricostruzione, della sua ricomprensione dei rapporti tra la cultura classica, in particolare il neoplatonismo, e gli aspetti legati al testo sacro e al cristianesimo. Una terza fase è quella dell'Agostino Vescovo, dove gli aspetti retorici sono un po' meno evidenti, ma dove tuttavia si riesce a individuare una ritorica che si potrebbe definire, che ho cercato di definire come conciliatrice, nonostante l'implessibilità di Agostino su alcune questioni, che si pone chiaramente sul livello del discorso, come dire, di riferimenti a questioni dottrinari, se potremmo dire, e dove tuttavia emerge la forza e la funzione politica della parola, che è in questo senso creatrice di storia. Quello che emerge dalla ricostruzione di De Vole è una figura di Agostino di cui si accentuano due aspetti. D'una parte la costante ricerca della verità, il costante sforzo di ricerca che emerge dal giovane Agostino e prosegue anche nelle altre fasi, e dall'altra un rapporto appunto con la prassi che emerge soprattutto nell'ultima fase, dove appunto la parola diviene anche creatrice di storia. La conclusione, in conclusione infine, cerco di trarre un po' le fila dal discorso devoliano su Agostino, e in particolare cerco anche di individuare la peculiarità della rappresentazione del Medioevo narrato da De Vole. E in questo senso riprendo anche due altri romanzi ambientati nel Medioevo di De Vole, quello su Francesco d'Assisi e su Tommaso d'Aquino, non ha scritto sulla geografia, insomma, vite di santi del Medioevo, ma ad esempio posso ricordare anche il romanzo dedicato ad Attila. Però mi sembravano interessanti queste due figure, perché in qualche modo hanno anche un'incidenza filosofica. Tommaso era filosofo anche, e Francesco d'Assisi ha avuto una grande rilevanza nella costituzione di quello che potrebbe chiamarsi, qualcuno ha parlato di filosofia francescana. E appunto tramite anche l'osservazione di questi altri due romanzi emerge una rappresentazione di Medioevo, potremmo dire plurale, dove appunto l'attenzione ai contesti, ai personaggi, alle differenze delle culture, nonostante appunto forse le figure dei santi siano effettivamente come dei nuovi eroi, potremmo dire. Però nella pagina di De Waul questo accade anche per parlare alla contemporaneità, in fondo per fornire degli esempi alla contemporaneità. E quindi la conclusione che mi sembra di poter trarre da questo tentativo appunto di osservazione, anche rispetto alla storiografia con cui probabilmente si è confrontato lo stesso De Waul, e quindi anche forse i pregiudizi potremmo dire che forse caratterizzavano la storiografia di quel tempo, seppur molto significativa, è quella tuttavia di aver a livello narrativo restituito un Medioevo polimorfo. Grazie. Grazie. Ultima relazione, Luca Cardone, Dalle fonti alla pellicola, la narrazione del Medioevo russo nel cinema di Eichertan e Darkoschi. Grazie. Sì, grazie. Comincio ringraziando il professor Parodi, la dottoressa Sorbestrini per l'invito, e grazie anche lei, il professor Rossini, per questa introduzione. Dunque, vado velocissimo, mi rendo conto che siamo un po' in ritardo, forse sulla tabella di marcia. Dunque, il mio articolo ha come domanda di fondo una domanda fondamentale, molto semplice, ossia può, diciamo, il prodotto di una pratica cinematografica, quindi un film, essere letto in una certa continuità con quella che è la pratica di scrittura della storia, e quindi le due pratiche, quella cinematografica e quella storica, sono in un certo senso associabili. Ecco, per rispondere a questa domanda sono partito da White, che mi ha dato sicuramente un aggancio importante, e se mi rifaccio quindi a quel pensiero per cui, diciamo, la storia, in quanto appunto pratica di scrittura della storia, non è in grado di slegarsi da quelle che sono le dinamiche, da quelle che sono le caratteristiche anche delle categorie del percorso narrativo, quindi di una narrazione. Diciamo, per rispondere a questa domanda, l'ho introdotta all'interno di quello che è il discorso della rappresentazione cinematografica della Russia medievale, in particolar modo in un periodo compreso tra il XIII e il XIV secolo. L'ho fatto attraverso due registi, che sono Sergei Eisenstein e Andrei Tarkovsky, in particolar modo i due rispettivi film, Il Nevsky, l'Alexa Andriyevsky e l'Andrei Rubiozzo. Per il mio saggio, per il mio articolo, ho in un certo senso evocato quella che io definisco una griglia interpretativa scissa in quattro punti, ossia dove abbiamo un contesto storico generale, un dettaglio storico, un momento creativo, e il momento di ricezione spettatoriale. Ecco, per quanto riguarda quindi l'Alexa Andriyevsky, possiamo dire che il ritaglio, diciamo il quadro storico entro cui Eisenstein vuole andare ad operare, è la rappresentazione di Alexander Andriyevsky, ossia questa figura di santo protettore, appunto celebrata all'interno della cultura russa, e in particolar modo impegnato in quella che è la difesa della città di Novgorod durante il periodo di invasione, appunto nel XIII secolo, da parte delle armate teutoni. Ecco, io credo che è molto interessante la questione del dettaglio storico, perché arriva un momento della produzione del film, del film appunto dell'Alexa Andriyevsky, in cui Eisenstein si ferma, cioè si paralizza, non sa più come andare avanti, e questo perché non sa come giustificare da un punto di vista storico il fatto che i russi abbiano, come dire, deciso di dar battaglia ai teutoni sul lago ghiacciato, decidendo quindi di dare, di utilizzare questa strategia per far collassare sotto il peso delle proprie armature e della cavalleria l'esercito teutone, quindi facendo rompere l'alastra di ghiaccio, quindi vincere così la battaglia. Per tutta la produzione del film, Eisenstein, come possiamo leggere dei diari, è stato sempre attento a quella che è stata la sua ricerca, diciamo, di fonti, diciamo, attento a tutta quella che è la storiografia, che è la pratica storica, diciamo, fa arrivare fino all'emergenza che è Eisenstein. E tuttavia, sul momento della stretta tenaglia sull'ago ghiacciato, Eisenstein non trova nulla, si sa solo che questa cosa sia avvenuta e non sa come rappresentarla cinematograficamente. La soluzione gli arriva finalmente leggendo per caso una fiaba della tradizione russa, ossia la fiaba della lepre e della volpe, una fiaba in cui la lepre riesce a imbambolare una volpe che si, diciamo, resta incastrata tra due betulle, la lepre riesce a prenderla dalle spalle e quindi ad ucciderla. Come utilizza questa favola Eisenstein? Lo fa, diciamo, introducendo all'interno del film la figura di Ineat, l'armaiolo, che racconta alle truppe questa favola e a questo punto Aleksandr Niewski ascolta la storia e gli viene in mente di utilizzare questa strategia. Perché credo sia importante? Perché se consideriamo che il film è del 1938, tre anni dopo ci sarà l'operazione Barbarossa, due anni prima c'è stato il primo patto tra i tedeschi e i giapponesi proprio contro l'Unione Sovietica, ecco, qualcosa si sta muovendo già all'orizzonte, non sono più i teutori, ma diciamo saranno quelle delle minacce appunto della Seconda Guerra Mondiale per l'Unione Sovietica. Io credo che appunto sia interessante l'utilizzo che Eisenstein fa di questa fiaba proprio per andare a rievocare una sorta di tradizione che condivide con il pubblico che andrà a vedere questo film e secondo me crea un vero e proprio appiettimento temporale tra quella che è appunto la popolazione russa che poteva essere quella appunto del XIII secolo e quella della prima metà del Novecento andando a fare una sorta di equiparazione come unendo un filo rosso e andando quasi ad evocare un certo senso di russità. Quindi io credo che da questo punto di vista Eisenstein sia partito da fonti storiche sia arrivato in un momento di buco diciamo così da punto di vista storico la narrazione cinematografica quindi non può permettersi tuttavia una pausa, una risolvenza in nero ha deciso di colmare questo buco con quello che io ritengo sia assolutamente un messaggio patriottico e quindi un messaggio riporto di risveglio anche cioè allora come adesso svegliamoci e difendiamo la nostra patria. Per quanto riguarda Tarkovsky credo che il procedimento per quanto riguarda Andrei Rubioff sia il medesimo che è in Eisenstein tranne che per l'ultimo punto. Il riquadro che Tarkovsky sceglie è quello della narrazione della storia di Andrei Rubioff questo monaco pittore famoso per aver dipinto la Trinità e questo è un monaco che per tutta diciamo la durata del film si porta dentro questa domanda ossia come io come posso continuare a fare arte in un mondo in cui sembrerebbe che Dio ci ha abbandonati cioè c'è solo devastazione, caos perché appunto parliamo della Russia del XIV secolo invasa non più dai teutoni ma adesso dalle popolazioni mongole che provengono dal sud. e secondo me per capire questa domanda che Rubioff si pone e anche Tarkovsky si pone nel suo periodo perché appunto parliamo della Russia del XVI Tarkovsky regista più censurato e ostracizzato da parte del regime, dal disgelo in poi per capire questa domanda di Andrei Rubioff è importante capire come nella cultura russa la questione dell'immagine sia diciamo l'immagine in particolar modo l'icona della religiosità bizantino-ortodossa è sempre portatrice di un certo valore di verità e questo valore di verità ha a che fare ovviamente con una verità spirituale diciamo trascendente io credo e me ne sono occupato in un altro lavoro che Tarkovsky abbia assolutamente ereditato dalla sua tradizione questa prospettiva di immagine in quanto portatrice di verità e l'abbia tradotta all'interno di quello che è appunto il panorama cinematografico quindi anche diciamo questo è il quadro generale questo è il contesto generale il dettaglio è andare a specificare l'esistenza in questo mondo appunto abbandonato da Tio di questa icona che è la diciamo la Trinità come lo fa, come va a giustificare l'esistenza di questa opera Tarkovsky lo fa secondo me in una sequenza tra le più belle secondo me di Tarkovsky ossia la sequenza della campana protagonista di questa sequenza è Boriska un giovane fonditore di campane che viene obbligato un po' dal gran principe russo nella costruzione di una campana e viene minacciato del fatto che se la campana non suonerà verrà tagliata la testa a lui e a tutti i suoi collaboratori e il resto diciamo della squadra di operai che lavora con lui Boriska dice di essere in grado di fare una campana e tra l'altro una campana in grado di suonare questo perché diciamo suo padre gli ha dato il segreto prima di morire Boriska fa la sua campana, la campana suona e nella penultima sequenza Boriska cade in lacrime tra le braccia di Andrei Rublyov dicendo di aver fatto la campana ma di non aver mai conosciuto nessun segreto perché suo padre non gli ha detto nulla da questo momento in poi Rublyov capisce si dà una risposta a quella domanda cioè come posso fare arte e perché devo farlo? devo farlo perché la mia è una chiamata e quindi in questo caso Tarkovsky va a concludere a proseguire il suo discorso narrativo cinematografico inserendo quello che è uno dei suoi messaggi soliti a mio avviso all'interno di tutta la sua cinematografia ossia quel tipo di sensazione, messaggio che il singolo soggetto porta dentro di sé e che non è comunicabile e qui siamo vicinissimi ad Agostino quando dice finché non me lo chiedi lo so quando me lo chiedi non lo so più credo appunto che la differenza in questo caso tra Eisenstein e Tarkovsky sia appunto nell'ultimo punto cioè la ricezione spettatoriale cioè dove l'uno lancia un messaggio di tipo patriottico va a risvegliare una certa coscienza collettiva nazionale Tarkovsky invece è sempre interessato a dare un messaggio diciamo al singolo soggetto cioè una singola anima una singola personalità anche in questo caso di risveglio ma ovviamente animoso non più diciamo patriottico quindi concludendo io credo che in entrambi i casi ci sia la possibilità di osservare come tutti e due partano e questo lo si può leggere dai loro testi dei loro diari partano da un percorso che segue delle dinamiche storiografiche cioè si rifanno fonti diciamo indagano quelli che sono dei reperti in un determinato periodo studiano monografie di questi personaggi la differenza secondo me nella traduzione tra quel materiale storiografico e quello cinematografico sta nel fatto che la pratica storiografica può sempre indicare e additare una certa assenza di fonti e da qui in poi magari far partire determinate speculazioni determinate ipotesi su quello che può essere una lettura su determinati dettagli appunto storici storiografici per quanto riguarda il cinema questo non è possibile perché appunto il cinema non può permettersi una dissolvenza in nero la narrazione deve procedere credo che in questi due particolari casi la narrazione sia andata avanti con due messaggi diciamo diametralmente opposti diversi e la domanda finale è questo mina il fatto che un percorso cinematografico possa essere una traduzione da un medium all'altro di determinati risultati e di una certa ricerca diciamo storiografica io questo non lo credo credo che assolutamente quindi queste due pellicole così come ce ne sono moltissime altre possano essere prese in continuità con quella che è la pratica diciamo della storiografia grazie grazie per l'ultimo intervento mi rendo conto che è molto tardi chiederei solo tre minuti di pazienza a tutti perché volevo chiedere a Francesca Forte se vuole presentarci un momento il prossimo numero di Doctor Virtualis il numero 17 che è anche un numero molto particolare e che in qualche misura si collega anche a delle per Francesca ma non solo per lei anche a delle relazioni personali molto profonde grazie Francesca sì grazie a tutti per la pazienza faccio veramente in fretta perché so che l'ora è tarda e quindi giusto per raccontarvi appunto che il prossimo numero sarà dedicato a Massimo Campanini che è stato un collaboratore tra le altre cose di Doctor Virtualis è un amico per tanti di noi un collega un maestro quindi insomma tutto quello che è stato Massimo per noi dato che ha anche appunto collaborato varie volte in vari numeri della rivista abbiamo pensato che il modo migliore per rendergli omaggio era proprio dedicargli un numero e per questo abbiamo chiamato un po' a raccolta i suoi amici i suoi colleghi sia italiani che stranieri Massimo aveva delle relazioni internazionali molto sviluppate cercando sempre però di mantenere quella che era l'anima della nostra rivista quindi insomma legato un po' al tema del Medioevo come sapete Massimo negli ultimi anni aveva spostato le sue ricerche e la sua attenzione anche al mondo contemporaneo alla teologia e non solo diciamo alla filosofia però diciamo per noi Massimo nasce appunto come studioso dei filosofi medievali arabo-musulmani quindi come studioso e traduttore di Averroè al Gazzali a Vicenna quindi abbiamo chiesto a questi colleghi e amici appunto di tracciare un po' un profilo di ricerca legato a questi temi quindi molti di loro avremo quindi degli interventi che partono tutti da autori del Medioevo quindi avremo un intervento su Gazzali che era un autore particolarmente amato da Massimo uno su Averroè uno su Ibn Khaldun uno su Maimonide ma la cosa credo più più bella e che credo rispecchi tanto anche sia lo spirito di Dotto ma anche quello che era lo spirito di Massimo Campanini è che tutte queste ricerche non rimangono mai legate solo allo studio filologico degli autori ma sono sempre aperte a un dialogo con la contemporaneità e in particolare con la contemporaneità appunto del rapporto sia dell'Islam con l'Occidente ma anche del rapporto del mondo arabo-islamico con la propria tradizione storica e la propria contemporaneità per cui alcuni dei suoi colleghi amici hanno poi partendo da studi diciamo sul Corano e sul Medioevo hanno poi approfondito il tema del rapporto con i movimenti ad esempio contemporanei movimenti islamici contemporanei o con l'ermeneutica del Corano contemporanea quindi siamo credo tutti in redazione contenti alla fine della qualità del numero che sta che sta nascendo e anche crediamo appunto che sia veramente un bel modo per noi di ricordare Massimo quindi spero poi di riuscire a fare speriamo di riuscire a fare una serata altrettanto bella interessante come quella di stasera grazie a tutti anche per tutti i vostri interventi grazie Francesca ringraziando a tutti anche della pazienza e per l'ora tarda vorrei solo chiudere con questa analogia legame mi sono reso conto che adesso Francesca ci ha ricordato attraverso il volume che uscirà la figura di Massimo Campanini Massimo Parodi prima ha raccontato come casualmente il monaco con gli occhiali come l'abbiamo sempre chiamato ci avesse poi ricordato la figura di Eugenio Randi io ho citato nel mio intervento all'anno di Lilla e il medioevo che è una citazione che per la prima volta io ho trovato in un testo di Eugenio e quindi viene da lui e adesso mentre Francesca parlava mi sono girato a prendere un testo perché mi sono ricordato una cosa e ho visto che in un convegno del 1988 ad Ascoli che si intitolava il medioevo specchio ed alibi Eugenio ha ottenuto una relazione che si intitolava il medioevo nei romanzi contemporanei sembra proprio una chiusura del cerchio e in qualche misura anche così un modo per raccontare tramite affetti personali perché poi ci sono ovviamente anche queste cose Massimo diceva pochi di noi possono dire di aver conosciuto Eugenio credo che siamo davvero in pochi a questo punto perché molti o non erano in università o sono molto giovani diciamo che è così si chiude un cerchio anche di relazioni personali spero che si possa davvero come ha detto Francesca anche in ricordo di Massimo Campanini fare un'altra serata come questa magari sul numero che appunto fra poco credo sarà in uscita ringrazio tutti per gli interventi tutti gli autori e tutti coloro che hanno ascoltato grazie a Massimo ad Amalia per il lavoro fatto su questo numero grazie al dottor Zanantoni per il lavoro fatto come Biblion sul numero e grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla scrittura e partecipato stasera ascoltandoci e andiamo appuntamenti a una prossima presentazione del numero grazie a tutti grazie arrivederci arrivederci grazie arrivederci grazie ciao a tutti arrivederci ciao Alessandra buona sera grazie buona sera piacere finalmente di esserci visti anche se solo virtualmente ma ce l'abbiamo fatta dopo parecchi numeri a proposito del riferimento a Varazze per sempre per motivi del tutto casuali però io sono nato a Savona ah ecco quindi non voleva dirlo ma è lui Jacopo da Varazze nel senso non lo voleva dire perché sembrava un po' troppo però in realtà è lui arrivederci arrivederci a tutti arrivederci